Buongiorno a tutti, vi ringrazio per l'invito, per esservi disponibili oggi, saluto il professor Doglioni che non ho avuto modo ancora di salutare stamattina. Ho già fatto una riflessione con il mondo delle scuole e degli insegnanti poco fa sull'importanza che la scienza ha per tutto quello che noi vediamo in questa struttura, quindi non è una cattazio benevolenza, i colleghi del mondo degli enti pubblici di ricerca lo sanno che a me il ruolo della ricerca e della scienza sta molto a cuore, non soltanto sta a cuore perché è fondamentale per lo sviluppo di qualunque tipo di economia, di qualunque tipo di paese, ma anche perché deve entrare nel dibattito sociale un elemento importante, cioè che senza tutte queste conoscenze scientifiche noi oggi avremo una qualità della vita estremamente inferiore. La scienza non è soltanto utile per il progresso tecnologico ma anche perché influenza positivamente la nostra qualità della vita. Senza i sistemi di studio, analisi e monitoraggio dell'attività vulcanica e sismica, senza quelli che hanno a che vedere con il rischio idrogeologico e il dissesto che consegue, senza quelli che hanno a che vedere con i cambiamenti climatici e tutti gli impatti che questo può avere a livello intersettoriale noi non potremmo garantire la sicurezza, noi avremmo città più insicure, avremmo probabilmente un sistema economico più disfunzionale, avremmo degli effetti costanti e ricordavo anche ai ragazzi delle scuole che molto spesso il lavoro degli scienziati non si vede perché non è quello che fa notizia sui giornali ma senza l'attività costante di un mondo scientifico che è giorno dopo giorno in un rapporto di collaborazione spesso internazionale che richiede davvero un aggiornamento costante, uno studio costante, noi non potremmo avere le cose che oggi abbiamo in questo paese, non potremmo avere un dipartimento della protezione civile che è in grado di agire in maniera così tempestiva, che può utilizzare nuove tecnologie per mandare le alerte sui rischi personalizzati magari per comunità specifiche, per le scuole, per gli enti locali. Questo è un elemento secondo me sottovalutato dell'importanza dei nostri investimenti in attività scientifiche che sono fondamentali per la formulazione, per la creazione di capitale umano, sono fondamentali per l'economia della conoscenza e su questo ci siamo ma sono anche sempre più importanti per l'impatto positivo che hanno sulla qualità della vita delle persone giorno dopo giorno, sulla limitazione del rischio, sulla capacità davvero di evitare catastrofi o comunque di alleviarne le conseguenze. Secondo me c'è davvero bisogno anche nel nostro paese di un dibattito molto serio sul ruolo della scienza e della ricerca e le ramificazioni degli impatti di tutte queste attività. Oggi il capo dipartimento mi faceva vedere un'applicazione che lanceranno a breve potenzialmente per tutti i cittadini italiani un'app che andrà sui nostri telefonini, beh quell'app non sarebbe possibile senza gli scienziati che hanno raccolto l'informazione, gli ingegneri che le hanno sviluppate, gli informatici che le hanno rese possibili dal punto di vista della computazione senza tutti gli architetti, designer che hanno costituito i telefonini e i chip che servono e così via. Raccontare questo secondo me fa bene al paese e fa bene al nostro mondo, il mondo della scienza e della formazione e ci ricorda e con questo concludo che senza un impegno importante dal punto di vista del paese e della nazione come tale anche non soltanto dal punto di vista economico tutto ciò non sarebbe possibile. Grazie. Signor Ministro semplicemente grazie. Io adesso la accompagno perché andrà a fare ma è stato veramente molto importante averla qui per noi e averla qui anche in apertura di questo incontro durante il quale noi ci confrontiamo con i nostri centri di competenza e parliamo appunto di quelle che sono le prospettive future delle nostre strategie. Quindi grazie, grazie ancora signor Ministro. Allora buongiorno, buongiorno a tutti. Sono felice di vedervi tutti quanti qui oggi. Abbiamo dovuto variare il programma perché come sapete la giornata di domani è stata impegnata dagli amici del CNR con un importante evento del Presidente del Consiglio al quale presenzierà il Presidente del Consiglio. Abbiamo anticipato oggi la nostra giornata e credo che l'abbiamo fatto nel migliore dei modi perché oggi abbiamo dato avvia a quella che è la settimana della protezione civile con questo momento dedicato dapprima ai giovani, alla diffusione della cultura, della prevenzione nelle scuole e anche della sicurezza nelle nostre scuole e oggi ci confrontiamo insieme a voi con due importanti momenti di confronto. Voglio ringraziare Mario Tozzi ovviamente e l'altro moderatore Francesco Forresta Martin che è lì, che lo saluto e lo ringrazio perché abbiamo pensato che fosse giusto, doveroso confrontarci anche nel corso di questa settimana sui temi che ci coinvolgono tutti quanti, il tema della previsione, della prevenzione, di quello che stiamo facendo, di quello che dovremmo fare. Voglio ricordare che l'intuizione geniale e qui voglio ricordare Giuseppe Zamberletti è stata quella di mettere insieme le istituzioni, la comunità scientifica e i cittadini in un grande gioco di squadra dove ognuno facendo la propria parte fa crescere la resilienza del nostro paese e dei nostri cittadini. Ricordo quando lui mi raccontò in uno dei tanti episodi dei nostri incontri di quello che successe durante il 1976, il terremoto del Friuli e mi disse a un certo punto c'era un illustre sismologo che aveva lanciato l'allarme perché ci sarebbe stata poi una forte scossa che avrebbe distrutto Udine e allora io che cosa ho fatto? Ho chiamato altri sismologi, li ho messi insieme e li ho fatti confrontare. Da lì è nata l'idea del supporto della comunità scientifica, l'idea di una commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi. Voglio ringraziare qui l'amico Gabriele Scarascia Mugnoz e tutti quanti voi non vi nominano uno per uno perché lo sapete che lavoriamo tutti quanti insieme ed è sono felice per il modo con cui lavoriamo. La prima volta che ci siamo incontrati con Gabriele quando gli ho detto che avevo intenzione di costituire da grandi rischi e di farne parte lui mi ha detto io ne faccio parte se in qualche modo questa commissione grandi rischi è costruttiva e quindi abbiamo avviato un percorso che sta dando reciproche soddisfazioni. Devo dire che i nostri centri di competenza sono dei centri di eccellenza nel Paese. Io quello che voglio lo dico è l'unico messaggio che vi voglio dare in apertura perché in Europa si stanno determinando certe dinamiche e quello di fare ancora di più squadra cioè l'idea di costituire un centro multi rischi che è la somma dei nostri centri di competenza è secondo me l'idea che dobbiamo portare avanti tutti quanti insieme perché l'idea che ci permette di andare in Europa a a dire noi siamo i migliori come in effetti siamo ma andare in ordine sparso ci crea dei problemi. L'altra cosa che voglio dire ne ho parlato anche col Ministro Provenzano qualche ormai due settimane fa è quello che nel nostro Paese oltre che la prevenzione strutturale io voglio far sviluppare la prevenzione non strutturale quindi un grande piano operativo nazionale per la prevenzione non strutturale che veda coinvolto la comunità scientifica veda coinvolto le amministrazioni per mettere in piedi tutta una serie di presidi per la sicurezza dei cittadini concludo dicendo che gli altri due obiettivi sui quali voi ci dovete dare una grossa mano ci state dando una grossa mano sono da un lato l'allertamento nazionale della popolazione la piattaforma it alert che sarà operativa dall'anno prossimo consentirà a luglio dell'anno prossimo sì sì io ho detto luglio dell'anno prossimo lo sanno anche le pietre consentirà ai nostri cittadini di avere un'informazione personalizzata sui livelli di rischio e sui comportamenti da tenere per fare questo io ho bisogno anche del vostro supporto oltre che per sviluppare tecnologicamente per rivedere la direttiva del 27 febbraio del 2004 sulla modalità di allertamento la stiamo riscrivendo la rivedremo insieme a voi stabilire soglie modalità operative di questa cosa e dall'altro anche di aggiornare la pianificazione di protezione civile l'attività di pianificazione protezione civile l'abbiamo sempre detto è fondamentale ma oggi come viene fatta anche se venisse fatta col massimo sforzo con la massima intensità da parte degli amministratori locali da parte delle regioni non avrebbe un grosso significato semplicemente perché io sono andato in giro ieri e l'altro ieri nelle piazze per la campagna informativa di non rischio mi sono trovato con delle realtà che mi facevano vedere il piano di protezione civile su una cartografia e e poi su un volume che stava lì poggiato la pianificazione di protezione civile deve essere fatta con un sistema web GIS unico a livello nazionale dobbiamo utilizzare nuove tecnologie gli strumenti di intelligenza artificiale per integrare le pianificazioni per restituire ai cittadini le informazioni che servono come a noi che siamo operatori di protezione civile a voi che rappresentate la comunità scientifica informazioni diversificate in tempo reale voglio concludere dicendo ancora che in questo in questa estate abbiamo assistito a una fase eruttiva dello stromboli che è stata la più impegnativa degli ultimi 60 anni ci sono state due esplosioni parossistiche il 3 luglio e il 28 di agosto che secondo me è stata gestita brillantemente perché come sapete poi era in pieno periodo estivo con tutte le problematiche che abbiamo avuto i nostri centri di competenza sono stati presenti abbiamo fatto una trentina di punti di situazione con tutti quanti voi la commissione grande rischi si è riunita tre quattro volte e soprattutto siamo riusciti a individuare grazie al finanziamento che noi abbiamo assicurato da tempo perché dal 2002 che monitoriamo lo stromboli siamo riusciti a individuare quel fenomeno precursore che è la deformazione della superficie del vulcano che ci ha portato a mettere in esercizio oramai e in automatico un sistema di allertamento per le esplosioni parossistiche e maggiori dello stromboli con un preannuncio dai 3 ai 5 minuti poi se riusciremo a farlo un'ora prima ce lo auguriamo tutti quanti ma al momento tre minuti prima al minimo noi potremo far suonare le sirene su stromboli e quando avremo operativo il sistema di il sistema di it alert sarà appoggiato su attestato su it alert mi faceva notare ma io volutamente non lo volevo citare l'amico si ripepe perché è stato lui a trovare questo fenomeno precursore ma non lo volevo citare perché oggi non c'è e per il modo con cui ha annunciato di aver fatto questa scoperta no a parte le battute devo dire che siamo stati felicissimi che maurizio di pepe ci abbia dato questa informazione l'abbiamo confrontata con i colleghi dell'ingv con carlo doglioni e tutti quanti gli altri e abbiamo messo in piedi questa procedura quindi diamo avvio ai lavori io mi metto di là da una parte seguirò i lavori insieme a voi e sono veramente felice che voi possiate oggi essere qui con noi allora buongiorno a tutti credo che ci conosciamo bene tutti quanti io penso che questo questa giornata che siamo riusciti a organizzare anche con qualche contrattempo ma alla fine mi sembra che tutti i centri di competenza sono rappresentati qui ai massimi livelli ad alti livelli questa giornata sia veramente un'occasione per di riflessione di scambio e anche di confronto con quello che si sta portando avanti in europa abbiamo qui due illustri ospiti la dottoressa Alessandra Zampieri e il dottor Hans Gersel che ci daranno anche il loro punto di vista come vedete dal programma oltre alla commissione grandi rischi abbiamo pensato di portare in questa in questa occasione anche i punti di vista dei centri di competenza sono tanti sono 49 centri di competenza ci siamo concentrati sui centri di competenza che hanno che svolgono attività di ricerca scientifica e che ci sono al nostro fianco sia partecipando alla commissione grandi rischi sia al di fuori della commissione grandi rischi e abbiamo anche i rappresentanti della pubblica amministrazione con le arpa emilia non so se arpa piemonte è riuscito a venire evidentemente no e e quindi queste i centri di competenza verranno impegnati in una tavola rotonda due tavole rotonde anzi una che sarà coordinata da franco foresta martin l'altra da mario tozzi così speriamo anche di vivacizzarle visto le loro capacità e le loro competenze scientifiche io dirò poche parole una decina di slide tanto per inquadrare alcuni punti importanti che poi verranno sicuramente ripresi sia dal presidente della commissione grandi rischi sia dalla dalla dai centri di competenza nelle tavole rotonde allora cominciamo col dire che il rapporto tra protezione civile scienza è un rapporto importantissimo perché da un lato noi abbiamo bisogno come protezione civile di definire e valutare i rischi per poter prendere le nostre decisioni nella gestione dei rischi e quindi c'è bisogno di un'interazione che sia collaborativa piuttosto che conflittuale anche se anche questo può succedere e succede tra la comunità scientifica e i decisori che possiamo distinguere in tecnici e politici e ovviamente le decisioni che la protezione civile deve prendere sono non solo dettate dalla conoscenza del fenomeno scientifico e del rischio che questo può determinare ma anche da altri aspetti socioculturali economici finanziari e dalle priorità politiche e dalle aspetti di tipo giuridico e della comunicazione sottolineo che comunità scientifica e cui appartengo in qualche modo comunque appartenevo fino a una dozzina di anni fa e decisori in termini generali ma ovviamente parliamo specificamente dei decisori di protezione civili hanno dei punti di vista degli approcci diversi gli scienziati modellano eventi passati per capire le fenomenologie e le loro dinamiche prevalentemente i decisori hanno bisogno di modelli che siano capaci di fare previsione e di descrivere gli eventi futuri in maniera che si possano prendere le decisioni più adeguate quando dico previsione dico previsione a tutto campo dal brevissimo termine al lungo termine quindi parliamo nel caso di pericolosità l'approccio scientifico ai rischi è sempre caratterizzato da incertezze quindi si usano spesso modelli di tipo probabilistico oppure si valutano verbalmente le incertezze con frasi che sono un po' ambigue come del tipo non si può escludere che succeda questo ci sono significative probabilità che si abbia un terremoto al nord sud centro e ovest e questo ovviamente ci può creare qualche difficoltà perché le nostre decisioni richiedono una risposta che definirei binaria cioè sì o no si fa o non si fa abbiamo poche alternative a volte abbiamo la possibilità di scegliere alternative ma saranno tre quattro cinque non più di tanto e infine un'altra caratteristica dello scienziato dei tempi è la tempistica i scienziati hanno tempi lunghi in generale sia per acquisire i dati sia per fare le elaborazioni e in questo cercano anche di ridurre le incertezze quindi tendono a rimandare le loro analisi fino a che non abbiano una buona conoscenza una soddisfacente conoscenza del fenomeno siccome questa non è mai soddisfacente la tendenza è quella di rimandare molto spesso quasi all'infinito i decisori devono operare perché ci sono situazioni urgenti situazioni d'emergenza o necessità di fare attività di prevenzione anche nel medio termine e quindi abbiamo questa difficoltà molto spesso abbiamo a che fare con possibili eventi catastrofici che hanno basse probabilità e quindi ci dobbiamo confrontare ragionare su probabilità di pochi punti percentuali quando va bene o addirittura dell'ordine dei punti per mille o per se noi parliamo del processo decisionale in protezione civile o in generale possiamo definire sei passaggi che diciamo sono teorici sono ben distinti in questo elenco ma molto spesso sono più che altro sovrapposti e su cui in questi passaggi che sono la definizione di livello accettabile del rischio che dovrebbe essere a carico del decisore politico la valutazione quantitativa del rischio che comprende le componenti di pericosità vulnerabilità esposizione e adesso anche la capacità che dovrebbe essere una un compito della del degli scienziati l'identificazione di azioni specifiche capaci di ridurre il rischio a livelli accettabili che può essere a carico del decisore tecnico ma nasce anche da una collaborazione col mondo scientifico una valutazione costi benefici delle azioni per la mitigazione quasi mai si fa in termini quantitativi ma generalmente si fa in termini qualitativa ma in prospettiva sarebbe utile che si facesse in termini quantitativi ma tenendo conto non solo dei costi economici delle possibili vittime che possono nascere da un evento ma anche del tutto il corollario di effetti socio economici e poi la ricerca della adozione l'adozione della soluzione tecnica più indicata infine l'implementazione che sono due attività tipicamente del decisore tecnico se andiamo a vedere quali sono i contributi che la scienza può fornire alla protezione civile i prodotti scientifici possiamo distinguere due grosse categorie quelli resi disponibili spontaneamente dal mondo scientifico quelli invece che sono richiesti dalla protezione civile e che vengono sviluppati dalla comunità scientifica che è in stretto collegamento e stretta collaborazione con il dipartimento della protezione civile e sistema di protezione civile in generale nel primo caso abbiamo situazioni anche molto difficili dal punto di vista della protezione civile perché se io ho un insieme di prodotti e informazioni generati da diversi centri che sono tra loro contrastanti chiaramente la protezione civile ha delle grosse difficoltà a prendere le sue decisioni su questa miriade di prodotti scientifici sullo stesso tema ovviamente poi ci sono invece i prodotti che vengono diffusi direttamente media che vengono definiti innovativi rivoluzionari fondamentali e che altrettanto ci creano problemi perché ovviamente se avessero una validazione scientifica saremmo ben contenti di innovare ma purtroppo molto spesso questi vanno direttamente in media senza validazione scientifica e quindi anche con il supporto del nostro mondo scientifico della commissione grandi rischi in particolare abbiamo difficoltà a gestirle. Poi abbiamo dei prodotti validi che non sono stati generati con un processo di collaborazione con la protezione civile che comunque quasi sempre hanno bisogno di un'ulteriore elaborazione di ulteriori passaggi per poter essere utilmente utilizzati dalla protezione civile. Il codice della protezione civile il decreto legislativo numero 1 del 2018 all'articolo 19 definisce bene qual è il ruolo della comunità scientifica. Comunità scientifica che partecipa al servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione anche già disponibili ma che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso questo è un passaggio fondamentale riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso e si ricollega un pochino a quanto dicevo un attimo fa e anche frutto di iniziative promosse dall'unione europea e dalle organizzazioni internazionali. Io spesso sintetizzo il rapporto tra scienza e protezione civile attraverso questa slide in cui si vedono nella parte bassa sei tipi di contributi che la comunità scientifica fornisce alla protezione civile. Attività permanenti per la protezione civile, ricerche finalizzate e finanziate dalla protezione civile, tutto questo come vedete viene fatto dai centri di competenza, come ho detto prima ce ne sono 49, poi commissioni permanenti per la protezione civile ma in sostanza ce n'è una sola, la commissione grandi rischi, poi ci sono commissioni su specifici temi o gruppi di lavoro, ne abbiamo avuto in passato, ce n'è uno attivo attualmente che riguarda la pericolosità del tsunami e poi le ricerche finanziarie da altri soggetti in primis dalla comunità dall'Unione Europea e poi le ricerche spontanee di cui accennavo un attimo fa che spesso sono prive di validazione scientifica. I centri di competenza sono definiti all'articolo 21 come gli enti e gli istituti di ricerca, i consorsi e le strutture universitarie che forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attività di protezione civile. Bene, abbiamo non solo centri di competenza scientifico ma anche di enti pubblici e quello che sottolineava prima il Capo Dipartimento al comma 4 di questo articolo 21 è che il DPC coordina le attività per la costituzione di reti di centri di competenza in prospettiva multirischio che è una parola chiave che si sta particolarmente sviluppando anche in ambiti europei e internazionali e la possibilità di collaborazione con i ministeri e con la Commissione europea. Ancora come lavoriamo con la comunità scientifica quella che più spesso ci supporta. In sostanza lo stesso codice individua quattro tipi di attività definiti come ABCD e tralasciamo un attimo l'attività D che è la collaborazione nella predisposizione di normativa tecnica di interesse. Vediamo la sequenza ABC che andrebbe letta piuttosto in ordine inverso CBA. C è ricerca finalizzata e la crescita delle conoscenze diciamo di base ma noi di base facciamo poco generalmente stiamo parlando di conoscenze che comunque hanno una finalità di rivelativa ai rischi di protezione civile. Queste conoscenze permettono di realizzare degli strumenti che possono diventare operativi ma prima di diventare operativi bisogna passare per la fase B che è l'attività di sperimentazione propedeutica l'attività di cura lettera A e poi passiamo alla fase A che stiamo parlando delle attività ordinarie e operative che includono tra l'altro il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e di ogni altra attività utile che fornisca prodotti di immediato utilizzo. Quindi vedete che il codice della protezione civile inquadra completamente il rapporto tra scienza e protezione civile di quanto fa la scienza per la protezione civile e quanto può fare. Ovviamente c'è anche un articolo che riguarda la Commissione Grandi Rischi ma di questo parlerà sicuramente il Presidente della Commissione Grandi Rischi che è il nostro organo di consulenza tecnico-scientifica per il Dipartimento della protezione civile. In generale abbiamo la necessità di questo rapporto con la scienza, abbiamo la necessità che questo rapporto si sviluppi armonicamente e quindi dobbiamo garantire relazioni stabili e continue tra scienza e protezione civile, facendo ogni sforzo perché questo rapporto sia armonico superando anche qualche difficoltà che può esserci perché i punti di vista sono chiaramente diversi. Grazie. Ho accennato al programma e come dal programma che avete anche con voi nella cartella, il primo intervento è di Hans Ulrich Goesel della DGE con la Direzione Generale Protezione Civile e Operazioni di Aiuto Umanitario alla Commissione Europea. Sapete che con la decisione 420 il mondo della protezione civile europea sta cambiando, sta diventando sempre più attivo anche con importanti finanziamenti e di questo ci parlerà credo Hans Goesel che parlerà in inglese ma non credo che in questa sala ci saranno difficoltà a seguirlo. Signori e signore buongiorno a tutti, infatti sono onorato di rappresentare qui la Direzione Generale di Protezione Civile e Aiuto Umanitario della Commissione Europea. Non ho portato nessuna presnazione ma magari per compensare un po' cercherò di parlare in italiano. Scusate se ci sarà qualche errore. Vorrei innanzitutto ringraziare per l'accoglienza e organizzazione di questo evento così importante sul legame esistente tra scienza e protezione civile in particolare grazie al Dipartamento della protezione civile nazionale qui. Allora sul legame esistente tra scienza e protezione civile l'Italia ha anticipato i tempi stabilendo già negli anni 90 una rete di centri di competenze, una rete di centri di previsione, monitoraccio come ci ha menzionato collegati tra loro e che sono parte integrante del sistema nazionale di protezione civile. Questo sistema italiano rappresenta un modello a cui a livello europeo abbiamo già fatto riferimento quando abbiamo sviluppato e lanciato in 2015 il progetto Aristotele. Una partnership di istituti di ricerca europei che forniscono al centro europeo di risposta e il coordinamento delle emergenze, il RCC a Bruxelles, una valutazione scientifica di un disastro 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 giorni. Oggi questa partnership ci aiuta a mettere in pratica questa nuova legislazione sul meccanismo europeo di protezione civile in cui il settore scientifico ricopre un ruolo fondamentale e credo che questa nuova legislazione sia anche una conseguenza diretta delle nuove tendenze diciamo come i cambiamenti climatici, la crescente urbanizzazione e l'interconnessione dei sistemi digitali che aiutano a spiegare in parte la crescente intensità e gravità delle catastrofi. Finora almeno al livello europeo soprattutto nel sentire comune abbiamo nella gestione delle catastrofi principalmente guardato alla maniera di rispondere a questi catastrofi. Tuttavia con gli anni abbiamo preso appreso che purtroppo malgrado gli sforzi e successi ottenuti nel campo della risposta non possiamo ridurre la gravità di una catastrofe il cui impatto sempre troppo alto e basta pensare agli ultimi staccioni degli incendi boschivi il cui impatto sulla popolazione ha purtroppo superato ogni previsione. Come conseguenza anche oggi la comunità europea di protezione civile ha compreso che ridurre l'impatto occorre investire non solo la risposta ma anche e soprattutto nella prevenzione e preparazione alla fine di intervenire efficacemente nella gravità delle catastrofi attraverso la riduzione dell'esposizione e della vulnerabilità della popolazione e delle comunità. E credo che questo sia un punto fondamentale che in questo contesto comprendere i rischi è indispensabile e la scienza prende il suo ruolo fondamentale. Con il nuovo meccanismo europeo di protezione civile siamo riusciuti a rispecchiare questa necessità di avere un sistema di gestione integrato delle catastrofi che covrano in modo coerente misure di prevenzione, preparazione e risposta. In particolare è un grande successo essere riuscito a passare da un sistema di gestione delle catastrofi a un sistema di gestione di rischio. si tratta in effetti a un primo passo ma è un importante passo verso un sistema di gestione del rischio capace di integrare efficacemente i vari strumenti esistenti a livello comunitario volti a minimizzare effettivamente l'esposizione e la vulnerabilità delle comunità. In questo nuovo cadro legislativo abbiamo voluto riconoscere il ruolo essenziale della scienza con l'introduzione, questo è il primo elemento che vorrei sottolineare, dell'articolo 3e che chiama a un maggiore uso della conoscenza scientifica in tutte le fasi della gestione del rischio. Anche per poter rispondere a tal obbligo e questo è il secondo elemento importante nella nuova legislazione, è stato introdotto l'articolo 13 che ci indica la strada per usare maggiormente e meglio la conoscenza scientifica, ovvero stabilendo il network europeo di conoscenza di protezione civile, cosiddetto European Network of Civil Protection. Allora che cos'è questo network? La domanda che si sta discutendo e che si sta riflessando ora con la Commissione europea e gli Stati membri, il network in generale si può dire il network europeo della conoscenza di protezione civile ha lo scopo di sviluppare una cultura comune di prevenzione e preparazione. Il network sarà composto da tre pilastri, uno i professionisti, secondo formazione e il terzo pilastro che è il più importante in questo contesto la scienza. Il pilastro della scienza vuole essere uno spazio dove i networks esistenti possono condividere, comunicare, imparare e collaborare. Questo lavoro dovrebbe essere fatto in un modo strutturato affinché la conoscenza scientifica sia disseminata in modo omocenio tra i paesi europei. Così la scienza dovrebbe poter contribuire ancora meglio ai loro sforzi per rispondere agli obblighi stabiliti nella nuova legislazione nel campo della prevenzione, preparazione e della risposta. Ci vorrei dare tre esempi generali per quanto riguarda la prevenzione gli Stati devono valutare i propri rischi e le proprie capacità di gestione di questi rischi al fine di pianificare la loro gestione. In questo contesto la conoscenza scientifica è necessaria per attività come la raccolta e analisi dei dati, lo sviluppo dei standard e metodologie, l'identificazione e la mappatura dei rischi. Secondo nel campo della preparazione la scienza è indispensabile per sviluppare ad esempio i sistemi di allarme rapido. Anche nella nuova legislazione è chiaro che questa responsabilità rimane al livello nazionale ma noi cerchiamo al livello europeo di complementare questi sistemi nazionali e contribuire alla loro integrazione, in particolare con il centro europeo di risposta e di coordinamento delle emergenze e dell'IRCC. Per questo come ho menzionato prima il modello italiano è stato l'esempio a livello europeo per rispondere a questo bisogno di informazione nelle prime ore di un disastro e per stabilire il paternariat da partnership conosciuto come Aristotele. Considuto da 15 istituti scientifici provenienti da 12 paesi e come sapete coordinato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Italia. La valutazione scientifica fatta da Aristotele contribuisce in modo sostanziale alla comprensione della situazione per noi al livello europeo nell'IRCC. Ci abbiamo varie iniziative e progetti scientifiche come ad esempio Copernicus con l'analisi delle immagini satellitari o come vari sistemi europei di allerta rapida ad esempio EFIS per gli incendi, EFAS per le indodazioni o CIDAX che è piuttosto il sistema globale generale che cerca di integrare i vari sistemi specifici europei. Queste iniziative e progetti della comunità scientifica ci formano questo nostro pillastro scientifico nel lavoro quotidiano dell'IRCC. E pertanto è importante continuare a investire nella ricerca con particolare attenzione a tutte le tematiche della protezione civile. e per concludere vorrei dire che le nuove responsabilità legate alla gestione di Rescue, la nuova legislazione, le varie iniziative che sfruttano la conoscenza scientifica devono fare ancora un salto di qualità. Ci sono questi due elementi, primo l'articolo 3 che più generalmente che ci dice ci obbliga di usare meglio e di più la scienza è l'articolo 13, il citato Knowledge Network e la sua componente scientifica, un elemento dentro del Knowledge Network per sfruttare sinergie tra le varie iniziative e dunque rafforzarle. In questo lavoro ambizioso che ci siamo prefissati ci aspettiamo che l'Italia rimanga sempre un farro e contribuisca come ha sempre fatto a immaginare un fatturo dove scienza e protezione civile riescono insieme a cerrare l'impatto di una catastrofe. Grazie per la vostra attenzione e rimango disposto alle domande eventuali se ci sono. Grazie, ringraziamo il dottor Gersel per lo sforzo di aver parlato in Italia. italiano è molto apprezzato veramente. Adesso lascio la parola al Presidente della Commissione Grandi Rischi, il Professor Gabriele Scarascia Mugnozza. Buongiorno a tutti, è per me un onore essere qui a rappresentare la Commissione Grandi Rischi, ben consapevole del carico di responsabilità che questo comporta, ne siamo sempre ben consapevoli io ed i colleghi ogni volta che ci riuniamo. Responsabilità non soltanto dal punto di vista scientifico ma anche direi proprio morale nei confronti del nostro Paese, prima di tutto. In questo mio breve intervento farò una carrellata su cosa è la Commissione Grandi Rischi, cosa fa la Commissione Grandi Rischi, anche se molti di voi che siete in sala ovviamente sanno già molto bene di cosa si occupa ma è sempre bene svolgere delle riflessioni comuni in modo anche da ricercare, trovare, discutere ulteriori passi in avanti che possano permettere una sempre più efficace ed efficiente rapporto tra il mondo scientifico e la protezione civile, il Dipartimento in primis ma tutto il Servizio Nazionale di Protezione Civile. E parlando di Servizio Nazionale di Protezione Civile non posso che ricordare cosa è stata già fatta dal Capo Dipartimento Angelo Borrelli ma colui che è il fondatore della protezione civile italiana, colui che è l'ideatore della Commissione Grandi Rischi. È stato già ricordato l'occasione in cui emerse questa necessità di un rapporto stretto tra mondo scientifico e decisori di protezione civile e quindi non sarò certamente qui a ricordarlo ma è veramente un ricordo sentito quello che tutti quanti noi credo vogliamo fare nei confronti dell'On. Zamberletti. Riprendo qui una slide di Mauro Dolce soltanto per ricordare dove si inserisce la Commissione Grandi Rischi all'interno del complesso intreccio di competenze e responsabilità che c'è tra appunto scienza e protezione civile. La Commissione Grandi Rischi è stato già detto è l'organo di consulenza del Dipartimento stesso. Molto brevemente, ecco questo è un semplicemente per ricordare ulteriormente che la Commissione Grandi Rischi è l'organo consultivo che funge da tramite quindi è il nesso fra la protezione civile e la comunità scientifica nazionale. E mi piace sempre ricordare questo comma dell'articolo del DPCM che rivede, aggiorna le competenze della Commissione Grandi Rischi che fornisce pareri in merito a questioni tecnico-scientifiche su richiesta del Capo Dipartimento ma può anche indicare, dare indirizzi di studio e ricerca per migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei rischi. E questo credo che tutti quanti noi seguiamo alla lettera questo dettato normativo. La Commissione, molto brevemente, è istituita con legge 225 del 92 e tuttora attualmente le organizzazioni e le funzioni sono ridefinite appunto con DPCM del 7 ottobre 2011 che è il riferimento normativo secondo cui attualmente la Commissione opera. Molto brevemente in realtà, se andiamo a vedere, la Commissione Grandi Rischi nasce come intuito già nel 76, come già ricordava Angelo Borrelli e di fatto dopo un ulteriore, un altro evento luttuoso, tra l'altro l'anno prossimo saranno 40 anni, dopo il terremoto dell'Irpinia ci fu un'ulteriore spinta a livello del Governo per la creazione, non soltanto l'istituzione di un Ministero di coordinamento della protezione civile ma adesso si dovesse, che a questo Ministero dovesse essere affiancato con appunto l'istituzione della Commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare che era chiamata a collaborare col Ministro stesso su problemi inerenti alla previsione e alla prevenzione dei rischi. Ricordo che la Commissione a quel tempo era composta dal Presidente, ovvero il Ministro per il coordinamento della protezione civile Savan Sansdir Giuseppe Zamberletti e da 10 esperti in diverse discipline. Poi ci sono state tutta una serie di modifiche, aggiornamenti, ricordo soltanto un evento, Cernobil 1986 per cui fu aggiunta tra le competenze della Commissione Grandi Rischi anche tutta la parte che riguarda il rischio nucleare e altre modifiche che hanno portato tra l'altro ad avere come Presidente della Commissione Grandi Rischi lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri fino ad arrivare attraverso appunto varie norme al DPCM che attualmente appunto ne regola le funzioni, il DPCM dell'ottobre del 2011 che prevede attualmente che la Commissione sia organizzata in un ufficio di presidenza composto da Presidente Presidente Emerito che di fatto è vacante e il Vicepresidente e da 5 settori che sono inerenti a diverse tipologie di rischio e che vedremo tra un momento. La Commissione dura in carica 5 anni e si riunisce sia in sedute plenarie sia in sedute per singoli settori. Passo molto importante che è stato già ricordato il Decreto Legislativo 1 2018 e all'articolo 20 prevede proprio, cita e fa riferimento alla Commissione Grandi Rischi, a quelli che sono i suoi compiti a quello che è il suo perimetro entro il quale può operare e questa è la norma di riferimento secondo cui si sta oggi aggiornando e rivedendo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che andrà a modificare quello attualmente in essere, quello del 2011. Bene, fatta questa rapida, rapido excursus sul quadro normativo quali sono i settori della Commissione Grandi Rischi? Lo ricordo a tutti quanti noi. sismico, vulcanico, metodo idrologico, idraulico e di frana, chimico, nucleare, industriale e trasporti, ambientale e incendi boschivi. Tra l'altro qui abbiamo oggi presente come referente ma ci sono anche altri colleghi, comunque c'è il referente del settore rischio chimico, nucleare, industriale e trasporti, professor Maschio che saluto e ringrazio. Quindi questi sono i cinque settori. Quando opera la Commissione Grandi Rischi? Bene, se facciamo riferimento a quello che è il ciclo del rischio come si inseriscono le attività della Commissione Grandi Rischi? Certamente le attività della Commissione Grandi Rischi così come indicato da quella freccia più grande, rossa, interviene alla Commissione quando si ha una condizione di emergenza. Un terremoto, un'eruzione vulcanica, ve ne darò tra poco alcuni esempi di questi ultimi due anni. La fase in cui c'è il massimo dell'attenzione anche da parte dei media e ahimè come vediamo da questo grafico l'attenzione dei media stessa dopo un po' di tempo va via via scemando fino a decadere, ad annullarsi del tutto e questo ben lo sanno i due colleghi amici che sono qui presenti, divulgatori, che sanno bene appunto qual è anche diciamo il mercato della domanda e dell'offerta in termini di comunicazione. Chiaramente c'è una minore richiesta di sapere e di conoscere quindi normalmente non dovrebbe essere così ma automaticamente l'attenzione va ad annullarsi. Ma poi c'è tutta un'altra fase importantissima che appunto quella che riguarda il risk assessment, il mitigation prevention, preparedness e in quel contesto e in quell'ambito che la Commissione Grandi Rischi per la verità dà il come dire il massimo delle sue energie, il massimo del suo impegno proprio nell'attività di previsione, prevenzione e indicazioni su possibili attività di mitigazione. Ci tenevo a far vedere questo schema perché appunto dobbiamo sempre aver ben presente come, dove, in quale ambito noi ci troviamo ad operare nei confronti e insieme con in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile. Ci siamo riuniti in questi due anni, quasi due anni perché in realtà l'insediamento di questa Commissione avvenne nel dicembre del 2017 quindi sono quasi due anni, ci siamo riuniti 25 volte come riunioni di settore e due volte come riunioni intersettoriali, tre settori. A queste poi si sono aggiunte anche le riunioni in seduta plenaria, due volte in seduta plenaria. Ci siamo riuniti in questi due anni, scusatemi, due volte nel 2018 in emergenza e una volta era intersettore SRV-SRS, lo dirò fra un momento, e due volte nel 2019. Secondo una prassi c'è una richiesta da parte del Capodipartimento e nei tempi minimi possibili c'è la convocazione della Commissione stessa che lo devo dire e ringrazio sempre i colleghi quindi siamo intervenuti entro le 24 ore dall'evento per il quale c'era stata fatta la richiesta di riunione. Le quattro occasioni in cui ci siamo riuniti in emergenza sono state il giorno 17 agosto dopo il terremoto del 16 agosto in Molise, il 28 di dicembre e questa è stata la riunione appunto intersettoriale fra sismico e vulcanico dopo il terremoto e l'eruzione vulcanica dell'Etna del 26 dicembre 2018, sempre giorni particolarmente importanti e poi sempre per rimanere in ambito diciamo di periodi di vacanze e di riposo anche lo stromboli per non essere da meno come ben sappiamo e me ci sono stati due parossismi 3 luglio e 28 agosto già citati prima dal Capodipartimento la Commissione Grandi Rischi si è riunita soltanto per il settore vulcanico all'indomani ovvero il 4 luglio e il 30 di agosto. Oltre che attività in emergenza come dicevo prima la Commissione Grandi Rischi opera anche in condizioni o in situazioni di quiete, in tempo di pace. Solo due esempi per rendere nota a tutti quanti quelle che sono le attività attualmente in essere da parte della Commissione per lo meno per quanto riguarda due settori ma potrei fare altri, citare altri esempi. Uno è il modello di pericolosità sismica 2019 che è tuttora in fase diciamo così di preparazione e predisposizione di un parere da parte della Commissione Grandi Rischi sul modello che è stato già consegnato al Dipartimento di Protezione Civile per rendere più efficacemente operativo ai fini delle azioni di riduzione del rischio sismico la stessa introduzione del modello anche ai fini normativi e poi l'altro aspetto importante su cui si sta operando i livelli di allerta vulcanica per quanto riguarda il Vesuvio e i Flegrei. A questo riguardo poi lo cito anche nelle considerazioni finali la Commissione Grandi Rischi sia in particolare nel settore di rischio vulcanico parteciperà e collaborerà all'esercitazione ex Flegrei 2019 che si svolgerà proprio a partire da mercoledì giovedì prossimo. Vado alle conclusioni. È evidente che la Commissione Grandi Rischi ha avuto, come è naturale che sia, una evoluzione nel tempo. Si è passati da pochi esperti, 10 iniziali, a una presenza di molteplici competenze ciascuna per ogni settore. Tant'è che oggi la Commissione Grandi Rischi hanno ovvero circa 50 esperti. È molto importante a questo riguardo all'interno della Commissione Grandi Rischi il coinvolgimento e la presenza dei rappresentanti legali o loro delegati permanenti dei centri di competenza proprio richiamando quanto veniva detto inizialmente e prima sia dal Capo Dipartimento che da Mauro Dolce. Credo di poter dire, senza tema di essere smentito, che in questi due anni c'è stato un contributo estremamente fattivo da parte della Commissione Grandi Rischi e di efficace e vera collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile. L'esempio appunto della partecipazione all'Exef Legre 2019 lo sta a testimoniare e ovviamente questa collaborazione sempre svolta nel pieno rispetto dei propri ruoli istituzionali che prevedono anche e deve essere, non può essere così, un'indipendenza della Commissione Grandi Rischi stessa nei confronti del Dipartimento. Alcune considerazioni su quelle che potrebbero essere sviluppi, quello che potrebbe essere il futuro. Beh, non posso che, considerata la presenza del rappresentante dell'Unione Europea, della Commissione Europea, fare riferimento alla possibilità e credo che su questo varrebbe veramente la pena di operare, di avere un coordinamento a livello di Unione Europea su Commissioni, Advisory Board in termini di protezione civile, Advisory Board dei governi nazionali. Io, come Vice Presidente della precedente Commissione, ho avuto la fortuna e il piacere di partecipare a un gruppo di lavoro che si occupava proprio di responsabilità in ambito di protezione civile degli Advisory Board presso i governi delle varie nazioni. E devo dire che l'esperienza è stata particolarmente importante, significativa e istruttiva. Quel gruppo di lavoro fu istituito non a caso dopo due eventi che ahimè hanno segnato in vario modo le nostre vite negli ultimi decenni, il primo terremoto dell'Aquila 2009, il secondo il terremoto Toku in Giappone e la conseguente disastro di Fukushima. Bene, a valle non soltanto di questi due eventi ma anche tenuto conto di una variata sensibilità, di una maggiore sensibilità appunto questo gruppo di lavoro ha potuto redigere anche un rapporto che fa più riferimento alla responsabilità di questi Advisory Board ma non soltanto. Quindi io credo che questo possa essere un punto importante, quello di creare un coordinamento a livello europeo di questi Advisory Board. Altro aspetto importante, ampliamento delle competenze rappresentate nella Commissione Grandi Rischi. Non c'è nulla da fare, oggi come oggi l'aspetto economico, sociologico, comportamentale è sempre più importante e quindi si potrebbe pensare ad una maggiore presenza di queste competenze anche nella Commissione Grandi Rischi, già ci sono nei centri di competenza ma potrebbe appunto essere parte di questo. Altro aspetto ovviamente delicato ma su questo il Dipartimento di Protezione Civile fa e deve continuare a svolgere il suo ruolo di filtro tra la Commissione Grandi Rischi, la scienza e i media e la società. Questo è un aspetto fondamentale per non creare dei cortocircuiti che ahimè in passato sono stati oggetto purtroppo di, diciamo così, hanno avuto conseguenze non sempre fortunate. Infine, non c'è il Ministro ma mi farò promotore di un messaggio, ritengo necessario e lo dico anche da docente universitario, un maggior, diciamo maggiore, finanziamento, maggiori risorse da parte del MIUR per le ricerche sul tema dei rischi e anche il reclutamento di nuove eleve a questo riguardo e soprattutto, lo dico per chi conosce le vicissitudini dei PRIN, progetti di rilevante interesse nazionale, certezza dei tempi perché non è possibile che i progetti del PRIN 2017 partano oggi, alla fine del 2019. E a questo riguardo, permettetemi, io sono un geologo e quindi ci tengo a farlo sempre presente, corrette azioni di Natural Disaster Reduction richiedono maggiori conoscenze riguardo al sistema terra e a come la terra funziona, un tema che è particolarmente caro all'amico e collega Carlo Doglioni, ma non soltanto a lui, soprattutto a tutti quanti noi geologi e sappiamo come oggi le scienze della terra, ahimè, soprattutto nei cicli scolastici, non trovano ampio e meritato spazio. E con questo ho concluso. Grazie. Grazie Gabriele. Importanti le due sottolineature finali, veramente utili. Grazie. Adesso arriva la parte più complessa, diciamo anche dal punto di vista organizzativo, cioè quello della prima tavola rotonda che riguarda i centri di competenza a Cami, Lab Cima, CNR, Università di Firenze, Io Center, INGV, INGV, ISPRA, Plinius, LabMot del Politecnico di Milano e Re Luis. Quindi inviterei tutti quanti a venire qui sul palco e adesso li facciamo, adesso prendiamo anche qualche sedia, due, tre, quattro sedie, credo che... No, io me ne vado, ma non ne occupi più di una, due. Mi ha piaciuto la tua valente collaboratrice. A cui vanno tutti i ringraziamenti. Mentre si accomodano io volevo anche cogliere l'occasione, visto che i tempi sono stretti e forse dopo non avrò il tempo, di ringraziare tutti i centri di competenza che hanno accolto l'invito di fare degli eventi locali e quindi noi abbiamo nei prossimi giorni, a partire da domani e fino al 19-20, visto che Eusenter porterà la sua tavola vibrante in una piazza di Pavia, abbiamo 14 eventi locali distribuiti un po' su tutta l'Italia, da Ancona, Napoli, Palermo, Pavia, Padova, due a Bologna, ovviamente anche a Roma il 18 al CNR e queste sono occasioni anche per poter diffondere sul territorio tutte le informazioni riguardante la collaborazione fondamentale della scienza con la protezione civile in generale e col Dipartimento in particolare. Allora se siamo tutti schierati io lascio la parola a Franco Forresta Martin che ha accolto con veramente volentieri l'invito da parte nostra di coordinare questa tavola rotonda. Buon lavoro. Mi sentite? Sì. Io intanto ringrazio il Capo del Dipartimento e gli altri dirigenti della protezione civile per avermi invitato a coordinare questa tavola rotonda. Volevo fare un piccolo scenno storico. Quando proprio questa mattina stavo venendo qui ho pensato che avendo avuto l'opportunità e la fortuna di cominciare a fare il divulgatore scientifico all'inizio degli anni 60, è 60, 6-0, quindi pensate quanto tempo è passato, ho potuto assistere soprattutto diciamo nei primi due decenni della mia professione a una serie di rivoluzioni scientifiche eccezionali. Basta ricordare la tettonica delle placche che riuniva in un unico quadro tanti fenomeni sparsi, il modello fondamentale della fisica con la definizione delle particelle e delle forze che governano la materia, la cosmologia del Big Bang che sostituiva quella visione di modello stazionario diciamo che era in voga fino agli anni 50-60. Per non parlare poi degli sviluppi tecnologici della esplorazione spaziale che nel corso degli anni 60 e 70 hanno visto le conquiste fondamentali nel sistema solare. Ma in tutto questo periodo che ho citato la protezione civile non esisteva. Ci volevano quei due eventi che altri relatori hanno qui richiamato questa mattina, prima il Friuli ma soprattutto l'Irpinia, per fare nascere e sviluppare la protezione civile. Quindi questo enorme ritardo che in fondo è in contraddizione con questo sviluppo esplosivo della ricerca scientifica e tecnologica di quel periodo. Questo enorme ritardo che però poi è stato superato in maniera eccellente, tant'è vero che anche un ospite straniero come Gessel che ha parlato prima ricordava alcuni primati della protezione civile italiana. Quindi partiamo da questa considerazione e vorrei invitare i presenti a esprimersi proprio su alcuni punti fondamentali. Intanto che cosa chiede alla scienza il Sistema Nazionale, il Servizio Nazionale della Protezione Civile? In poche parole chiede stime quantitative di rischio con associate valutazioni di incertezza. Allora mi piacerebbe che ognuno di voi esprimesse per la propria competenza la possibilità di rispondere positivamente a questa richiesta. Seguiremo un ordine, visto che è un ordine bisogna sempre darlo, che non è banalmente quello alfabetico che non avrebbe senso, ma io vorrei seguire l'ordine dettato dagli otto, da quelli che sono indicati dagli specialisti della protezione civile, come le otto tipologie principali di rischio. Cioè sismico, vulcanico, maremoti, idraulico, idrogeologico, fenomeni meteorologici estremi, deficit idrico e incendi boschivi. Poi ce n'è tutta un'altra serie che non sono di minore entità e che spesso, diciamo, a effetto domino sono coinvolti dai primi. Quindi chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, igienico-sanitario e spaziale, nel senso che possono cadere sulla Terra pezzi di satelliti artificiali o, peggio ancora, e speriamo mai, asteroidi e grossi meteoriti. Allora, vediamo, seguendo questo schema, di rispondere a queste domande fondamentali e io direi di cominciare, visto che li ho citati nell'ordine, con il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doioni, che appunto si occupa di sismologia, monitoraggio sismico e vulcanico, pericolosità sismica, vulcanica e da maremoti. Prego, Carlo. Questo va bene? Va bene, non importa. Sinceramente non ho preparato un discorso, quindi faccio solo delle considerazioni a valle di quello che ho sentito oggi e ovviamente ringrazio tutto il Dipartimento per aver organizzato questo evento, che sicuramente è molto utile per scambiarci idee e per guardare al futuro. Quando è stata creata la protezione civile nazionale, con la lungimiranza del presidente Merito Zamberletti, c'era uno sviluppo della protezione civile che era a valle dei grandi eventi. Infatti è stato citato il terremoto del Friuli, poi quello dell'Irpinia. Quindi è una protezione civile che in qualche modo ha rincorso gli eventi. però negli ultimi anni il Dipartimento di protezione civile ha avuto una mutazione genetica e cioè si sta muovendo per sviluppare le sue capacità, le sue potenzialità prima che gli eventi avvengano, che è la cosa più saggia che ovviamente si potrebbe fare. Quindi da questo punto di vista tutto quello che si sta vedendo, la collaborazione tra gli enti di ricerca, tutte le istituzioni coinvolte nei centri di competenza, ma anche poi quelli che sono tutti gli organi che lavorano con la protezione civile. C'è un sviluppo di collaborazione che secondo me è, come diceva prima il Capo Dipartimento, essenziale perché insieme si va molto più lontani che non da soli. Quindi vedo uno sviluppo particolarmente utile e questa giornata in cui viene dato risalto alla conoscenza scientifica come base penso sia la chiave di lettura che in qualche modo ci fa vedere alcuni spunti sia a livello del problema dei rischi naturali che deve essere gradualmente declinato a livello europeo e quindi grazie anche alla presenza di Aristotele e del Dottor Gessel che ha fatto un discorso proprio in questa direzione, cioè di cominciare a vedere i rischi e le risorse anche a livello paneuropeo. Noi come rischi ovviamente assieme alla Grecia dal punto di vista sismico, vulcanico siamo i più esposti quindi abbiamo questo tipo di necessità di maggiori conoscenze da tradurre poi in attività concrete di protezione civile. Abbiamo tantissimo veramente ancora da conoscere sui meccanismi dei terremoti e dei vulcani però abbiamo già delle conoscenze che ci permettono di arrivare a quel minimo di quantificazione che giustamente in questo white paper che è stato proposto ci danno in qualche modo delle linee guida su cui muoversi con tutte appunto le incertezze del caso. Vorrei ricordarvi che l'istituto che adesso si chiama Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è l'insieme di tanti istituti che una volta erano separati qui ci fu la lungimiranza di Franco Barberi di metterli insieme e con l'aiuto di Enzo Boschi ma quello che era l'ING, l'Istituto Nazionale di Geofisica che fu una gemmazione del CNR prima di diventare tale a livello governativo si chiamava ufficio presagi proprio perché aveva geodinamica e presagi perché aveva il compito di dare delle indicazioni al governo proprio in termini di previsione. E io non scorderò mai un colloquio che ho avuto nel corridoio qui dietro proprio con l'onorevole Zamberletti che mi disse proprio in maniera esplicita ma voi dell'INGV dovete studiare i precursori. È chiaro che il tema precursori voi potete immaginare è un tema molto delicato e soprattutto in campo sismico magari in campo vulcanico si cominciano ad avere delle evidenze molto più concrete ma in campo sismico ancora c'è tanta strada da fare e certamente non siamo in grado al giorno d'oggi di fare previsioni ma è un campo su cui investire certamente. Le previsioni di terremoti al momento non siamo ovviamente in grado non sappiamo se e quando mai ci arriveremo ma sono un elemento che in termini di protezione civile così come si fanno le previsioni per altri fenomeni naturali quantomeno dal punto di vista della conoscenza è giusto investire. In questo negli ultimi mesi abbiamo trovato sempre terreno molto fertile col capo della protezione civile con tutto lo staff del dipartimento per pensare ad accrescere le conoscenze in questo settore. Quindi è un tema sul quale credo varrà la pena di investire perché fa parte di quel grande bagaglio di conoscenze che citava prima Gabriele Scarascia Mugnozza presidente ACGR che dobbiamo in qualche modo sviluppare. A me viene sempre in mente un parallelo tra il campo dei rischi naturali e il campo medico. C'è la conoscenza che viene poi applicata in tutti gli ospedali. Ci sono dei protocolli che in qualche modo vengono accettati in termini di diagnostica che poi vengono in qualche modo applicati anche qui con un approccio inizialmente se si vuole di tipo deterministico ma poi di fatto è un approccio probabilistico che determina la scelta del medico se attuare una pratica, un tipo di medicina oppure un intervento o un altro. Quindi un percorso simile. Qual è la grande differenza tra il campo medico e il campo dei rischi naturali? Sono differenze sfumate perché poi il campo medico si rivolge all'individuo, al singolo ma anche a una salute pubblica mentre i rischi naturali in genere sono di carattere collettivo quindi ci sono ricadute diverse che devono essere viste a livello comunale, regionale, nazionale e appunto la protezione civile nazionale entra in gioco quando ci sono problemi di carattere nazionale. Ora l'NGV ha un ruolo importante e credo che le mille persone che ci lavorano sentono questa responsabilità e vogliono in qualche modo essere protagonisti del contributo che deve essere dato come centro di competenza alle attività di protezione civile. Quindi per rispondere alla domanda del moderatore Franco penso sulla buona strada. Anche il progetto Aristotele di cui si è parlato prima ma i nostri centri, per esempio i nostri ERIC che abbiamo, EPOS ed EMSO che si occupano di terra solida e di terra fluida sono dei punti di partenza per una maggiore conoscenza del sistema. Qui raccogliamo dati ma ci vogliono sempre le idee. Un bel mucchio di mattoni come si dice appunto non fa una bella casa quindi ci vuole sempre il ricercatore che sia in grado di modellare, di quantificare i processi per produrre dei modelli che siano utili anche ai fini di protezione civile. Grazie. Ecco, sono in alternativa ai microfoni. Anche se io non lo avevo detto esplicitamente il professor Doioni è rimasto nei 5-6 minuti attribuiti a ciascuno di voi e quindi lo ringrazio anche per la sintesi oltre che per il contenuto del suo intervento. Restiamo in questo ambito sismico, vulcanico e quindi senz'altro la parola al professor Giulio Zuccaro che è il responsabile scientifico di Plinius che è il centro studi per l'ingegneria idrogeologica vulcanica e sismica della Università di Napoli. Grazie Franco. A proposito del nome quando lo inventammo ci veniva da ridere perché disse ma come Plinius ma figurati. Poi a un certo punto lo dissero in televisione a proposito dell'esercitazione Mesimex. Dice vabbè ma allora è vero, è Plinius. Questo centro è stato diciamo, mi piace nominarlo, una intuizione di Chico de Bernardinis che aveva seguito con molto interesse una serie di ricerche che il nostro centro di ricerca dell'Università di Napoli aveva svolto in alcuni progetti europei. Vesuvius, Exploris insieme agli amici degli NGV, mi piace nominare Agustoneri, Macedonio, Papale ed altri. e disse no ma queste attività che fate in una visione ampia di collaborazione già a quell'epoca, parliamo del 2004, tra appunto scienza, comunità scientifica e protezione civile, queste attività, questi studi che voi fate devono entrare in un sistema coordinato di supporto alla protezione civile dove le informazioni, i risultati, le simulazioni, i modelli di simulazione che lì all'epoca già si vedevano in nuce voi sviluppate e che sono di tipo quantitativo con un'incertezza ben evidente attaccata vicino. Questi erano i due capisaldi, quantizzare ma con incertezza, sono di grande utilità. Io ricordo che l'ultima slide al convegno finale di Exploris, alla presenza di Chico de Bernardis, misi una bicicletta con un ciclista che andava in salita e disse beh caro Chico abbiamo fatto questa bicicletta ma ora bisogna imparare a guidarla e a saperci andare. E in effetti così è stato, insomma è stata una bellissima esperienza di collaborazione con la protezione civile tutta che io ringrazio pubblicamente per i consigli, supporti che ci hanno sempre dato e che un piccolo gruppo di ricercatori all'epoca dell'Università di Napoli eravamo 4-5, adesso ne siamo 23. Siamo cresciuti con loro e siamo stati anche spinti a presentarci a progetti europei. Quindi anche questo è molto importante, mi fa piacere che qui c'è la rappresentanza europea. Una realtà di ricerca nazionale per quanto illuminata come quella italiana, come è stato giustamente sottolineato, cioè questo connubio scienza-dipartimento di produzione civile è stata una grande intuizione fin dall'epoca di Bertolaso che è andata avanti fino ad oggi, da Zamberletti, come è stato già citato, Franco Barberi, e che non si è mai interrotta in tutto questo periodo. Io credo che poi trovi nella attività a livello europeo una sintesi. Quindi mi fa piacere che voi vediate al modello italiano come un modello da perseguire e io nelle mie esperienze che ho avuto a livello europeo in vari progetti con cui ho collaborato ho potuto integrare quello che si faceva in Italia con gli indirizzi della Commissione. Cioè oggi il nostro centro lavora sì sul rischio vulcanico, su cui abbiamo una nostra specifica, diciamo il nostro specifico ruolo che poi sintetizzerò in chiusura brevemente, ma abbiamo avuto attraverso la collaborazione con i progetti europei e con la Commissione anche l'opportunità di entrare in un contesto più ampio dove l'integrazione del disaster risk reduction e climate change adaptation è un must, dove il rischio non può essere visto settorialmente per silos dove ognuno svolge il suo ruolo o di sismico o vulcanico, dove i dati vanno messi insieme, ecco l'importanza di Aristotele, Epos, Copernicus, tutti questi progetti. Quindi in una visione più ampia di integrazione degli studi, dei rischi e quindi anche di individuazione di un comune approccio, quindi un comune approccio che non è solo terminologico, e anche di modelli, di metodologie che evidentemente devono trovare un fattor comune per poter essere sommate, poter essere integrate, poter essere valutate nella loro capacità di cascading effect e così via. Quindi tutto questo in qualche modo mi è stato chiaro attraverso il progetto espresso che ho coordinato e che proprio oggi con il collega Michelini parlavamo è stato un enorme sforzo di sintesi di quelle che sono le prospettive, gli orizzonti futuri anche in ambito europeo delle tante competenze che confluiscono nella valutazione, nella riduzione, nella programmazione per la riduzione del rischio, che sia rischio a tutto tondo. Per quanto riguarda Plinius, Plinius al di là delle ricerche che svolge per la protezione civile ha un ruolo particolare che metteremo adesso subito alla prova nell'esercitazione dei campi flegrei, che è quella di dare delle simulazioni in tempo quasi reale sull'impatto da eventi sismici, il che è fondamentale nella fase preeruttiva di unrest per eventualmente valutare i percorsi per l'evacuazione disponibili che non siano stati interrotti. Da quindi anche supporto alle squadre che andranno sul territorio a verificare la percorribilità su nostra indicazione perché potremmo priorizzare i percorsi più probabilmente interrotti dove loro possono andare immediatamente e infine con la collaborazione, tutto questo sempre in collaborazione con l'Ingv Osservatorio Vesuviano che ci dà i dati, ma l'Osservatorio Vesuviano fa di più praticamente a cadenza di 12 ore, dalle previsioni del tempo stabilisce quale potenzialmente potrebbe essere l'aria investita da una ricaduta di cenere facendo riferimento a un'eruzione di riferimento subpliniana di tipo 1 e noi in tempo reale tiriamo fuori in automatico l'impatto atteso. Evidentemente questo di grande interesse per gestire le ore immediatamente successive all'evento. Grazie dell'attenzione. Grazie Giulio. Restando sempre in questa tematica, quindi ingegneria sismica, vulnerabilità e rischio sismico e da maremoti, invito a parlare Marco Di Ludovico che è il delegato del presidente di RE LUIS che sarebbe la rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica, ancora dell'Università di Napoli. E a questo punto ho però una curiosità come vi interfacciate visto che la materia è comune e che fra l'altro siete così vicini rispetto ai vostri ruoli nei confronti del Dipartimento. Un attimo tu e poi una parola. C'è grande collaborazione ovviamente perché le tematiche sono in buona parte comuni. Sebbene le fenomenologie diverse impongono a volte diversi approcci, sulla sismica c'è un enorme database di danni osservati. Per quanto riguarda la parte vulcanica non abbiamo lo stesso. Danni da flussi piroclastici o da caduta di cenere ovviamente sono molto meno. Lì bisogna ricorrere a una vulnerabilità calcolata dove si fanno altri tipi di approcci. Però c'è grande comunanza di intenti e anche di lavoro. Sì, a testimonianza di ciò nella giornata che stiamo organizzando tra due giorni a Napoli proprio nell'ambito degli eventi della settimana nazionale della protezione civile vedremo ci saranno interventi sia da parte di Reluis sia da parte di esponenti del Centro Plinius e questa testimonianza della forte sinergia e collaborazione che ci ha sempre contraddistinto. Tornando al tema posto inizialmente, Reluis è la rete laboratori universitari di ingegneria sismica è nata nel 2003, nasce come centro di competenza del Dipartimento della protezione civile al fine di fornire supporto su tutti i temi di ricerca mirati alla mitigazione del rischio sismico e nasce alla stregua di quanto già accaduto in altri paesi, negli Stati Uniti, nei paesi asiatici con l'idea di mettere a sistema le risorse e le competenze dei ricercatori italiani, delle università italiane ma anche con l'idea di ottimizzare le risorse investendo nel potenziamento e nell'equipaggiamento dei laboratori italiani in una maniera che potesse consentire di lavorare su un tema così ampio, così vasto, così importante in maniera sinergica, quindi andando a dotare i laboratori di attrezzature complementari e poi mettendo in rete i risultati delle sperimentazioni effettuate nell'ambito dell'ingegneria sismica Il Consorzio ha come priorità quella di fornire, di mettere a sistema tutte le università e la prova di tutto ciò è che da anni nei progetti di ricerca che ci vedono impegnati per il Dipartimento di Protezione Civile abbiamo mediamente circa 450 ricercatori anno che lavorano su queste tematiche e 250 unità coinvolte. Ovviamente gli obiettivi sono quelli in linea con l'articolo 21 citato prima del Codice della Protezione Civile di fornire dei prodotti che possano avere un immediato utilizzo, che possono avere un'immediata ricaduta nel campo della mitigazione del rischio, per cui evidentemente definizioni di mappe di rischio su cui stiamo lavorando, andando a analizzare la banca dati, ahimè molto ricca di dati dati riguardanti i danni subiti dalle strutture nel post sisma dei recenti eventi italiani quindi mappe che possano consentire e da un lato di prevedere, di avere degli scenari di perdite in caso di azione sismica ma anche di indirizzare le politiche di investimento per la mitigazione del rischio perché sono mappe che ci consentono di associare ad un'intensità sismica la probabilità di attingimento di un certo livello di danno. Parallelamente evidentemente lavoriamo sulla definizione di tecniche e tipologie di intervento e metodi progettuali di intervento per andare a incrementare la capacità degli edifici e del costruito esistente in una logica però che è quella moderna di minimo impatto quindi di possibilità di intervenire in tempi rapidi sul costruito e di massimizzare il beneficio di un intervento. Altro tema fondamentale è quello del monitoraggio, del monitoraggio del costruito e anche dell'analisi dei dati oggi è importante anche iniziare a vedere come si possono sfruttare dati che vengono dall'utilizzo dei dati satellitari. Tutto questo è quello che tipicamente nelle nostre corde è le attività che svolgiamo normalmente in cosiddetto tempo di pace ma è chiaro che il nostro contributo è anche un contributo che viene a essere fortemente chiamato in causa laddove ci sono delle emergenze. Dal 2003 purtroppo si sono susseguiti diversi eventi sismici e la nostra attività ha riguardato soprattutto la verifica di agibilità degli edifici pubblici. Mi piace ricordare che in questi anni abbiamo eseguito verifiche di agibilità su più di mille scuole e questo è un tema particolarmente importante evidentemente nella gestione dell'emergenza e più di 5.000 edifici monumentali e chiese solo nel post terremoto del centro Italia. Così come siamo stati poi coinvolti in momenti importanti quali le fasi di ricostruzione che specie nel post Sisma dell'Aquila ci hanno visto protagonisti tra coloro che hanno contribuito all'analisi dell'efficacia degli interventi che si sono poi progettati. E quindi questo è il contributo che noi portiamo avanti e che intendiamo dare e in ultimo voglio ricordare la nostra partecipazione a tutte le campagne che riguardano poi la cosiddetta prevenzione non strutturale tema prima citato di fondamentale importanza e anche qui sia in fase di emergenza quindi nei momenti concitati del post sisma in cui diamo supporto per incontri con la popolazione per andare a dare spiegazioni su quelle che sono le problematiche connesse all'evento sismico e anche come intervenire in maniera corretta sugli edifici esistenti e tutte le campagne invece di prevenzione di sensibilizzazione quale quella di io non rischio che proprio ieri è stata per il nono anno portata avanti in tutte le piazze italiane in questo ambito noi ci muoviamo nella formazione dei volontari che poi sono i testimoni e che devono poi trasferire nelle piazze italiane i concetti che possano portare a una sensibilizzazione dei cittadini nei confronti di questo grande tema del rischio sismico. Grazie Dottor Di Ludovico. Vedo che nella variegata geografia dei centri di competenza l'ingegneria sismica ha un ruolo fondamentale come giusto che sia e quindi chiamo a intervenire il presidente Riccardo Pietrabissa della fondazione EU Centre che è l'European Centre for Training and Research in Earthquake. Sì grazie ma io volevo fare una riflessione sul sul titolo della della giornata la scienza per la protezione civile perché avendo anche avuto qui il ministro stamattina credo che ci siano alcune sottolineature importante di questo binomio scienze protezione civile lo dico perché anche la domanda che ci ha fatto il moderatore tende un po' a cercare di mettere in luce quale sia il valore che noi siamo in grado insieme di produrre, valore per la società. Società che evidentemente vede nei rischi naturali tre grossi fattori di danno percepito che sono il rischio sull'ambiente, il rischio sul patrimonio e il rischio sulla vita delle persone. Quindi la domanda in effetti esiste ed è forte il nostro ruolo è quello di riuscire anche a spiegare quanto il nostro di sistema, la nostra azione sia efficace e affidabile perché questo è un po' il tema che veniva posto quanto la messa a sistema di scienza e azione di protezione civile possa essere efficace ed affidabile. Chiaramente non ho la risposta credo che non l'abbia nessuno in senso stretto però il processo secondo me deve essere affidabile, più che la risposta che noi siamo in grado di dare. Il processo che parte dalla scienza e arriva all'azione di protezione civile è un processo per certi versi, lasciatemi dire, nuovo. Perché la scienza da sempre lavora per discipline e quindi approfondisce, approfondisce, approfondisce e crea conoscenza. Quando invece il sistema di protezione civile in tutti i paesi cerca di dare risposte in termini di prevenzione, di gestione dell'emergenza e quant'altro a problemi che non sono per loro natura disciplinari ma sono estremamente complessi. Quindi raccolgono nel loro insieme una quantità enorme di conoscenze, alcune scientifiche, alcune tecniche, operative. Quindi la complessità tipicamente di questi fenomeni non è proprio dello scienziato fisico, chimico, geofisico, ingegnere. Allora questo è uno sforzo importante che oggi va sotto il nome di terza missione della scienza. In fondo tutti noi che lavoriamo in questo paese siamo stati investiti pesantemente da un ruolo a cui ci viene chiesto di dimostrare in qualche modo, lasciatemi dire, anche l'utilità della conoscenza. E credo che questo sia un esempio estremamente virtuoso, no? Che nasce prima della richiesta istituzionale di documentare il ruolo della scienza nel paese e lo fa verso un'esigenza che è l'esigenza del cittadino, della società, non tipicamente quella del mondo industriale che invece deve produrre. Questo è un esempio direi virtuoso e antelitteram di capacità di mettere la conoscenza e quindi la scienza al servizio di un bisogno del cittadino. Ora in questo ci sono di fatto poi tre attori, no? Perché c'è l'attore scienziato, cioè colui quale sviluppa conoscenza in quanto tale, c'è l'ambito invece di chi utilizza la conoscenza per un servizio, e questo è il tema della protezione civile, e poi c'è in mezzo qualcuno che è in grado invece di tradurre la conoscenza rendendo di fatto la conoscenza utilizzabile per chi la deve utilizzare. Non è come se fosse un ruolo dell'azienda che in fondo dell'impresa, dell'imprenditore che sapendo delle cose produce un prodotto. Ecco, noi ci sentiamo un po' in questa fase, no? Noi, la Fondazione Ussentre è un centro di mezzo, no? In cui, avendo tra i suoi fondatori le due università di Pavia e INGV e peraltro anche la protezione civile, fa proprio questo ruolo, cioè di utilizzare la conoscenza per sviluppare tecniche, processi e servizi di cui la protezione civile si può servire proprio per erogare il servizio ultimo al cittadino. Quindi un ruolo direi prezioso e in tal senso richiede la presenza sia di scienziati che quindi sono in grado poi di fare quella traduzione anche lessicale, no? Fra la conoscenza, quella che io chiamo raw knowledge, no? Quella conoscenza proprio di base e la capacità invece di selezionare quei prezzi di conoscenza mettendoli insieme per offrire un servizio. Ecco, questo credo che sia proprio in grandissima sintesi quello che noi abbiamo a fare in una catena di produzione di valore che credo sia ormai evidente a tutti, no? E sulla quale, seguendo anche l'incentivo che, l'incitazione che dava Gabriele Scarascia, quella di dire ma in fondo forse un aumento di finanziamento a queste attività che documentano in maniera molto chiara un servizio al Paese e quindi probabilmente anche dal punto di vista politico non vedo grosse difficoltà a dire finanziamo queste cose credo che possa essere accolto e sostenuto con grande forza. Grazie. Grazie. E passiamo da una categoria di rischi importanti a un'altra fondamentale in Italia, rischio idrogeologico e rischio da frane. In questo caso è il professor Nicola Casagli, presidente del CPC, Centro per la protezione civile dell'Università di Firenze, a intervenire. Grazie Nicola. Sì, grazie anche per il tema stimolante sulla prevedibilità e l'incertezza. Il rischio idrogeologico e in particolare il rischio di frana rientra nella categoria degli eventi cosiddetti prevedibili. È ovvio però che le previsioni che possono essere anche oggi fatte con le notevoli tecnologie che abbiamo a disposizione sono affette da un grandissimo grado di incertezza. Ed è anche altresì necessario spiegare che non è facile dire eventi prevedibili. Ma cosa prevediamo? Ci sono tanti aspetti di un evento che necessitano, che possono influenzare la previsione. Nel caso specifico delle frane, cos'è? La magnitudo, il volume, la velocità, lo spessore, la fluidità, l'esatto istante in cui si verifica il fenomeno, il luogo, il tempo. Non è chiaro questo. È necessario che la comunità scientifica su questi aspetti faccia chiarezza e dica cosa è possibile, cosa non è possibile e qual è il grado di incertezza associato alla previsione di alcuni aspetti. Faccio un esempio perché in questi giorni c'è stato l'anniversario, il 56esimo se non sbaglio, del disastro del Vaillant, la più grande catastrofe idrogeologica che ha interessato l'Europa in tempi storici. Si legge sui giornali, si legge sui social, disastro annunciato. Ho approfondito recentemente, mi è capitato di approfondire la vicenda giudiziaria che ha seguito il Vaillant, che è anche interessantissima da un punto di vista scientifico, con due collegi peritali, nominati dallo stesso giudice istruttore, ai tempi c'erano i giudici istruttori, uno dei quali aveva escluso completamente la prevedibilità del fenomeno, dicendo un fenomeno così rapido non era immaginabile, e l'altro collegio invece diceva che il fenomeno era esattamente prevedibile perché si erano verificati eventi analoghi in passato nei dintorni. Ora, riflettendoci bene, entrambi i collegi avevano ragione, cioè dicevano una verità rigorosamente scientifica. A un certo punto è necessario distinguere e anche assumersi, come è stato fatto nel caso della vicenda giudiziaria del Vaillant, anche una responsabilità di chi deve giudicare, cioè del giudice, attraverso la sua intuzione. Io penso che la sentenza Vaillant sia stata giusta, ma non credo che ci sia stato un errore da parte dei collegi peritali nell'identificare le diverse sfaccettature della prevedibilità. Ricordo che il motivo per cui la frana del Vaillant è venuta giù così rapidamente non è ancora stato oggi dimostrato, e siamo a 56 anni dall'evento. Che si trattasse di una frana grande, che si trattasse di una frana destinata a cadere nel lago, a generare l'onda, era risaputa, erano stati fatti modelli, ma la velocità di caduta ancora ad oggi non è stata spiegata. Se il Vaillant, a mio parere, ha rappresentato un contributo importante della comunità scientifica, così come in altri casi, il punto più basso, a mio parere, si è raggiunto, non c'entra con le frane, ma c'entra con un rischio affine di cui abbiamo parlato, con la vicenda giudiziaria dei grandi rischi, che è stato un processo alla scienza, cioè nel senso, anche lì impernata sugli aspetti di prevedibilità e incertezza, però ha avuto conseguenze drammatiche, anche come credibilità della comunità scientifica, in cui ci saranno bisogno di anni per ricostruirla. E su questi aspetti bisogna riflettere, perché ritengo che siano particolarmente importanti. Infine voglio sottolineare, come è stato fatto anche dai colleghi, che il ruolo della scienza per la protezione civile non si esaurisce solo sulla previsione, senz'altro l'aspetto più stimolante, più interessante da un punto di vista scientifico, ma anche negli altri fasi, cioè la prevenzione, il supporto alle emergenze e, perché no, il superamento delle emergenze. Il superamento delle emergenze è forse l'aspetto, insieme alla prevenzione, in cui il sistema nazionale protezione civile mostra un po' i suoi limiti, incontra le sue maggiori difficoltà. E, perché no, anche qui la comunità scientifica, con le migliori conoscenze, l'innovazione, la necessaria flessibilità, il rigore scientifico, il confronto internazionale, il fare rete con altre istituzioni scientifiche potrebbe portare a avere una svolta. Grazie per l'attenzione. Grazie a te. Restiamo in questo ambito di Frane, facendo intervenire la delegata del direttore di Camilab, che è il Laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica dell'Università della Calabria. Giovanna Capparelli, prego. Ok, adesso funziona. Vi porto i saluti del professore Versace, che in suo malgrado non ha potuto partecipare alla giornata. Collaboro con lui da tantissimo tempo. Faccio parte del Camilab, che è centro di competenza della protezione civile. Noi operiamo in Calabria dal 1991, ma anche in molte altre regioni, e abbiamo anche il piacere di collaborare con molti altri centri di competenza, con CIMA, con l'IRPI, con l'Università di Firenze. Abbiamo fatto rete sempre nel tentativo di migliorare, di dare risposte sempre più efficienti. Dunque, noi ci occupiamo sostanzialmente, quindi per dare risposta alla domanda che ci è stata posta, come Camilab ci occupiamo essenzialmente di metodologie, di approcci metodologici, al fine di proporre modelli o procedure risolutive che siano in grado di dirci, dare un'indicazione sulle cause di innesco degli eventi e sulle possibili evoluzioni post struttura o evoluzioni di propagazioni di onde di piena. Ci occupiamo anche di verificare, è esposto un po' l'efficacia delle soluzioni che proponiamo, quindi un po' per evitare, come diceva il professor Dolce prima, le bad decision. Quindi cerchiamo un po' di valutare, evitando un po' lungaggini, testare un po' i modelli che proponiamo. Io penso che in questo campo possiamo dire che la scienza, le università, la ricerca scientifica ha fatto dei grossi passi avanti. Abbiamo degli ottimi modelli in grado di simulare le piene. Noi come Camilab abbiamo proposto da modelli concettuali a modelli più dettagliati che sono in grado di definire un po' la generazione del deflusso e la propagazione poi del deflusso fino alla sezione di chiusura. Abbiamo realizzato dei modelli di supporto, dei modelli di innesco delle frane, modelli empirici, quindi modelli del tipo a soglia, ma anche modelli fisicamente basati, modelli che sono in grado di dare indicazioni a valle di un input pliometrico, indicazioni su quelli che sono i piccoli spostamenti, le deformazioni, possibili condizioni che concorrono all'innesco di un pendio. Abbiamo anche fatto dei grossi passi avanti per quanto riguarda anche l'uso, se vogliamo, anche della statistica per la previsione delle piogge. Abbiamo messo in campo modelli stocastici per la previsione della pioggia, sia modelli di tipo puntuale che modelli di tipo areale, e sfruttando l'importante informazione che viene dai modelli di tipo meteorologico, abbiamo anche realizzato dei modelli stocastici che intrecciano attraverso un metodo baesiano l'informazione stocastica e quella proveniente dai modelli meteorologici. Quindi da un punto di vista modellistico, secondo me, la ricerca appunto, come dicevo prima, è riuscita ad avere degli ottimi risultati. Abbiamo anche accumulato delle ottime esperienze sui temi di early warning, quindi sull'utilizzo di sensoristica puntuale, reale, cioè tutto ciò che può concorre poi di fatto a limitare al massimo il rischio poi sostanzialmente delle persone. Abbiamo anche individuato procedure, messo a punto procedure per l'identificazione degli scenari d'evento e l'identificazione di punti critici in corrispondenza dei quali diventa inaccettabile il livello di rischio di eventuali elementi esposti. Quindi tutti questi elementi sicuramente messi a fattor comune, messi a sistema, ma possono contribuire secondo me a dare una risposta positiva che ci ha in qualche modo incoraggiato il collega Mario. Mario vero? Franco chiedo scusa. Ora è chiaro che in questa è una catena di montaggio importante perché abbiamo il precursore d'evento, allora sicuramente lì abbiamo, come dicevo, fatto degli importanti passavanti, la modellistica ci dà dei grandi spunti. Ciò che sicuramente, probabilmente, il punto su cui dobbiamo ancora puntare è la capacità di individuare gli effetti al suolo. Abbiamo anche, grazie all'impegno importante della protezione civile del Dipartimento, anche l'ultimo nello mancante che poi, se vogliamo, è quello più importante, la comunicazione, la divulgazione, essere certi della percezione del rischio, anche su quello ci sono delle importanti campagne che aiutano poi a chiudere un po' il cerchio. Ecco, gli effetti al suolo probabilmente sono ancora una parte importante su cui noi, come comunità scientifica, come un mondo università, in particolar modo come centri di competenza, dobbiamo impegnarci. Allora vorrei dare un po' spunto ad una riflessione che magari possiamo mettere in comune. Tutto ciò che, come dire, le informazioni disponibili che avvengono in fase di previsione si rivolgono ad aree estese e prefigurano sostanzialmente, come dire, degli scenari, molteplici scenari. Quindi, in realtà, è difficile riuscire a individuare la tipologia di evento e la localizzazione dell'evento stesso. Quindi, probabilmente, è importante riuscire a mettere a sistema, anche partendo dai contesti territoriali, conoscenze, modelli, sistemi, procedure che siano in grado di minimizzare questo gap e quindi evitare di dare, come dire, delle informazioni su ampie scale che non ci aiutano, che non aiutano la protezione civile a rendere efficaci i loro interventi, cercando di minimizzare, appunto, questo gap e arrivare a delle soluzioni un po' più di dettaglio e puntuali. Vi ringrazio. Sistematicamente ci dimentichiamo alla conclusione degli interventi di chiudere. ha parlato, Giovanna Capparelli, di cause di innesco degli eventi. Io mi chiedo, ma lo giro anche all'altra persona che sta per intervenire su questo stesso argomento, e cioè Luca Ferraris, che è il presidente della Fondazione Cima, Centro Internazionale di Monitoraggio Ambientale, in che misura i cambiamenti climatici in atto stanno aggravando le situazioni e quindi determinando delle cause di innesco più impattanti nei confronti anche degli altri rischi che abbiamo esaminato questa mattina. Prego, Luca. Sì, grazie mille. Sì, grazie della parola. Per quanto riguarda la domanda stime quantitative di rischio e qual è l'impatto del cambiamento climatico, sicuramente abbiamo delle risposte parziali. Cioè sicuramente la prima risposta che abbiamo è quella che oggi abbiamo messo in piedi dei strumenti di preannuccio, di strumenti di preannuccio probabilistico per le alluvioni, per le grandi alluvioni e per gli incendi boschivi. E da questo punto di vista direi che siamo abbastanza soddisfatti, tanto è vero che attraverso il progetto Aristotele lo stiamo portando in Europa e nel mondo. C'è però tutta un'altra parte che riguardano tutto il mondo dei temporali forti organizzati, le cosiddette bombe d'acqua che è un termine orribile che anche grazie all'aiuto di Tozzi stiamo cercando di estirpare dal mondo dei mass media, dove però la nostra comprensione e la nostra capacità di prevedere deve ancora fare passi in avanti. Deve fare passi in avanti e lì proprio su questi temporali forti organizzati probabilmente abbiamo il maggior impatto del cambiamento climatico. Sicuramente un dato che ormai è già consolidato è quello che in termini di frequenza, cioè il numero di volte che si realizzano sul nostro territorio nazionale, è sicuramente aumentato. E quindi questo sarà sicuramente una sfida che ci prenderà tutti nei prossimi anni. Un'altra attività di ricerca, sicuramente prioritare un'altra sfida è quella di valutare gli impatti di questi temporali, ma anche un'altra grandezza, prima citata da Mauro, che è la capacità. La capacità delle nostre comunità a reagire, le capacità delle nostre comunità ad adattarsi. E qui si vede molto bene il link col piano di adattamento al cambiamento climatico e quindi come queste comunità debbono in qualche modo adattarsi ai rischi. Questa capacità la possiamo legare ai piani di protezione civile, ai piani di protezione civile attraverso la partecipazione. Anche qui è in corso una sperimentazione che riguarda i piani di protezione civile partecipati, dove la partecipazione, a differenza di altri settori, è declinata non tanto per decidere, ma quanto per fare. Cioè coinvolgere le comunità, coinvolgere i cittadini per partecipare anche loro all'attività di protezione civile, anche nelle fasi di prevenzione e di allertamento. Ad esempio i presidi, le sentinelle del territorio, sono elementi importanti che possono essere introdotti nel piano di protezione civile. Altro tema che oggi è emerso in questa sala è sicuramente quello della responsabilità, quello della responsabilità giuridica. Sono dieci anni che studiamo questo tema. Come ho già ripetuto più volte, oggi non c'è stato solo il procedimento giuridico alla Commissione Grandi Rischi, ma oggi i procedimenti attivi sul sistema di protezione civile sono più di 100. Sono più di 100 e riguardano soprattutto il livello del territorio più basso, i sindaci, i tecnici comunali. Le imputazioni sono omicidio, colposo, disastro, alluvione, eccetera. E se facciamo una classifica delle contestazioni che più sono rivolte al sistema di protezione civile, perché il sistema giuridico potrà piacere o non potrà piacere, ha dei difetti, ha dei pregi, ma è sicuramente un controllo del sistema. Bene, la prima contestazione in classifica di questi 100 procedimenti è l'omessa e l'errata comunicazione alla cittadinanza. Volete sapere la seconda? Bene. La seconda è l'omessa inefficaci e inefficienze pianificazione di protezione civile. Quindi comunicazione al cittadino, inefficaci e inefficienze pianificazione di protezione civile. E qua concludo con un progetto molto caro al nostro capodipartimento, cioè con IT Alert. Quindi vedendo queste contestazioni si capisce bene perché la necessità di questo progetto in cui noi vogliamo arrivare a comunicare direttamente col cittadino. Tante volte il nostro capodipartimento definisce questo progetto come un progetto che stravolgerà il sistema di protezione civile. Io lo preferisco chiamare un progetto che coinvolgerà il nostro sistema perché con questo progetto sicuramente faremo un passo tecnologico molto importante perché riusciremo a raggiungere i cittadini ma irrobustiremo anche tutto il tema della comunicazione, tutto il tema dei piani di protezione civile ma anche favoriremo maggiormente tutte quelle norme di autoprotezione attiva dei cittadini. E qui ritorniamo al coinvolgimento attivo dei cittadini là dove eravamo partiti. Grazie. Grazie per queste anticipazioni su temi appunto così coinvolgenti nei confronti della cittadinanza. Ancora in tema di rischi ambientali chiamiamo a parlare il delegato del presidente di Ispra che è Claudio Campobasso, Ispra è l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Prego. Grazie. Il nostro istituto collaboro ormai da tantissimi anni con la protezione civile ma volevo segnalare in primis che dal 2016 con la legge 132 che ha creato il sistema nazionale per la protezione ambientale noi facciamo parte quindi di un sistema che ci vede insieme alle ARPA pronti a rispondere ad ogni esigenza di protezione civile il che amplia molto diciamo ecco il quadro dell'intervento del nostro istituto che sostanzialmente riesce ecco a mettere in campo quasi 10.000 unità lavorative in caso di necessità. Il nostro istituto proprio dal nome che porta cura tutte quante le matrici ambientali e quindi rispondiamo a tutte le esigenze di protezione civile che non riguardano soltanto gli eventi sismici o le frane ma qualunque altro tipo di problematica emergenziale che può essere anche quella dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua legate anche a problemi di gestione degli impianti industriali. noi siamo strutturati su tre dipartimenti tecnici io curo in particolare quello che attiene alla parte geologica perché è il dipartimento per il servizio geologico nazionale gli altri due dipartimenti curano tutte quante le altre matrici ambientali quello che è importante sottolineare è che alla luce delle esperienze che noi abbiamo maturato negli anni in particolar modo negli anni scorsi dopo gli eventi appunto calamitosi del terremoto del centro Italia sulla base di quell'esperienza la nostra amministrazione ha istituito proprio un centro nazionale per le emergenze che è una struttura che è in grado di mobilitare i nostri esperti in tempi brevissimi per dare appunto tutta la collaborazione necessaria nella fase sia dell'evento e in quella successiva post evento. Premetto che noi come compiti nostri istituzionali effettuiamo ricerche con la creazione di apposite banche dati e di produzione anche di cartografia geologica e tematica che rappresentano quegli elementi base che vengono poi utilizzati appunto da tutti gli organismi di protezione civile. Faccio riferimento in particolar modo alla produzione della cartografia geologica ufficiale alla scala al 50.000 che è rimasta purtroppo un po' indietro per problemi non certo legati alla nostra attività ma per la mancanza di risorse finanziarie ma che stiamo cercando di rifare risovvenzionare appunto dalle autorità governative per cercare di coprire almeno con i fogli geologici che sono un insieme di fondamentali informazioni ambientali e non soltanto di tipo geologico almeno le parti dell'Italia particolarmente soggette appunto al rischio di cui ancora sono appunto carenti. Oltre a ciò rendiamo sempre disponibili banche dati che riguardano per esempio le faglie attive e capaci lavoriamo anche insieme alla protezione civile per quanto riguarda la problematica dei fenomeni di tsunami insomma lavoriamo veramente ad ampio raggio. E segnalo altresì che questa collaborazione che noi abbiamo insieme alle ARPA abbiamo provato proprio fattivamente a metterla in pratica proprio durante i rilevamenti geologici che sono stati effettuati nelle fasi post-sisma perché abbiamo coinvolto oltre ai nostri esperti anche quelli delle agenzie. E in ultimo per concludere faccio presente che stiamo anche fattivamente lavorando per la microzonazione sismica insieme appunto a tanti colleghi che qua sono presenti come c'era appunto il professor Scarascia Mugnozza per cercare di dare un contributo appunto alla creazione di cartografia di dettaglio in grado di dare uno strumento proprio di scelta urbanistica agli amministratori del territorio in quelle aree appunto maggiormente a rischio sismico. Grazie. Grazie al delegato di Ispra ci avviamo verso la conclusione della tavola rotonda abbiamo tenuto all'ultimo il rappresentante del CNR del Consiglio Nazionale delle Ricerche che è Fausto Guzzetti in rappresentanza del presidente Massimo Inguscio. perché? Per ultimo perché nella tabellina delle competenze relative a ciascuno dei centri lui ha molti rischi, cioè assomma tutti quanti i rischi di cui abbiamo parlato perché un grande ente come il CNR si occupa di tutto. Prego. Sapevo che c'era la fregatura. Ma questo fa il paio in realtà, mi da l'adito di dire che fa il paio la domanda è difficile ma fa il paio quello che il dipartimento fa spesso porre alla comunità scientifica delle domande difficili. Credo che questo sia un ruolo fondamentale di questo dipartimento. Dall'altra parte la capacità della comunità poi di accettarle ed eventualmente di rispondere a queste domande. Il CNR è grosso e ha una lunga frequentazione col dipartimento. Io sono entrato nel CNR nel 1985 e letteralmente poche settimane dopo sono state portate a riunioni tenute dal ministro Zamberletti che organizzava il contributo della comunità scientifica a quello che poi è diventato il sistema nazionale della protezione civile. Più di recente, diciamo dagli anni 2000 in avanti, come ente siamo un centro di competenza organizzato sia come ente che attraverso nove diversi istituti di tre diversi dipartimenti su sette. Quindi siamo intrinsecamente, come diceva il nostro moderatore, multidisciplinari. In totale stimo che ci sia qualche centinaio di ricercatori dell'ente che sono impegnati in attività di interesse specifico del dipartimento. Per venire diciamo alla risposta alla domanda, io penso che c'è un comune sentire in gran parte della scienza se non in tutta che sta andando verso previsioni di tipo probabilistico che intrinsecamente includono le incertezze. Una probabilità senza un livello di incertezza ha poco significato, si usa male. Però Mauro Dorce ce l'ha detto molto bene prima in una delle sue slide. Le decisioni finali sono dicotomiche, sì, no, lo faccio o non lo faccio. Io penso che quindi dobbiamo da un lato continuare a investire risorse in primis cognitive, proprio dobbiamo pensare meglio a come fare le nostre previsioni, ma dobbiamo anche investire molto per capire come utilizzare o come permettere ad altri di utilizzare queste previsioni in probabilità intrinsecamente incerte. Qui mi piace ricordare una cosa che ho avuto il privilegio di scrivere qualche mese fa, alla fine, per un'opera di Treccani che si chiama Le sfide della scienza, Europa, Le sfide della scienza, nella quale ho scritto sostanzialmente che per studiare i rischi naturali, perché di questo poi alla fine parliamo, e per difendersi efficacemente dalle loro conseguenze serva, parafrasando Vico, Giambattista Vico, quella che io chiamo una scienza nuova, la scienza dei rischi naturali, che, badate, non è, non può essere la semplice somma algebrica delle conoscenze disponibili, ma che sia in grado di considerare le complesse interazioni, e nel caso del multirischio ancora più numerose e ancora più complesse interazioni fra tutti gli elementi naturali, fisici, ambientali, economici e sociali e umani che caratterizzano i rischi e le loro conseguenze. È una bella idea, ma non è mia, è un'idea che gira nella comunità scientifica, in particolare in medicina. Nella medicina c'è da qualche tempo un'idea che si chiama Convergence Science, Scienza della Convergenza, che è stata proposta da due persone, in particolare dell'MIT. Uno è un premio Nobel per la medicina, Phil Sharp, l'altra una sua collaboratrice, una neuroscienziata che si chiama Susan Cockfield, che è stata il presidente dell'MIT. L'hanno per la prima volta, diciamo, scritta in rapporti interni dell'MIT, ma poi è diventata, come dire, il pubblico dominio in una loro lettera a Science. E io penso che questa scienza dei... Da un lato, non so se questa... Forresta Mantin parlava di rivoluzioni scientifiche, non so se questa porterà a una rivoluzione scientifica, dal mio punto di vista sicuramente porta una rivoluzione nell'approccio che la scienza ha risolvere problemi che hanno una ricaduta sociale. E questa scienza dei rischi naturali, secondo me, se avrà successo, non solo avrà contribuito a far avanzare le conoscenze, che di per sé sarebbe un gran vantaggio, ma avrà anche concorso a disegnare, soprattutto a costruire una società più sicura e quindi, dal mio punto di vista, migliore. Grazie. Grazie ancora a tutti e allora lasciamo lo spazio alla tavola rotonda conclusiva. Allora, ringrazio Franco, Forresta Martin e tutti i partecipanti a questa tavola rotonda. prima della seconda tavola rotonda abbiamo un intervento ancora dall'Europa, questa volta dal Joint Research Center, c'è Alessandro Zampieri che ci parlerà di prospettive internazionali in comuni tra scienza e protezione civile, progetti europei e internazionali, il Disaster Risk Management Knowledge Center e la Science for Disaster Risk Management. Grazie, grazie Alessandro. L'hai già caricata? Penso che sia. La presentazione è giudizia. La presentazione è giudizia. Ci siamo. Sigo con questo. Buongiorno e grazie di aver invitato la Scienza Europea a questo evento. Io sono la capa unità dell'unità di gestione dei rischi del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. Il compito e ruolo del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea è sì fare scienza e devo dire che ci sono degli scienziati di altissimo livello nelle mie unità. Ma ha un compito il JRC, soprattutto negli ultimi anni, ha trasformato il suo ruolo e si è focalizzato sul bisogno di fare in modo che i risultati della scienza, i nostri e quello di tutti gli scienziati, i migliori scienziati al mondo, vengano assorbiti dalla politica. Quindi il nostro ruolo sempre di più è quello di assicurarsi che le politiche che vengono sviluppate sia a livello europeo ma anche negli Stati membri a livello nazionale siano basati sui risultati scientifici solidi. Quindi quando abbiamo letto che cosa ha scritto la nuova Presidente della Commissione Europea, la signora von der Leyen, nelle lettere che ha mandato da alcuni dei suoi commissari, questo è stata musica per le nostre orecchie. Per uno dei Vice Presidenti, quindi i più importanti futuri commissari della Commissione Europea, c'è proprio scritto che il suo ruolo è quello di rafforzare questa cultura di evidenza scientifica in tutti i processi di policy making. Tutte le politiche devono essere basate su una scienza migliore e basate sui risultati della scienza. E questo è, devo dire, abbastanza rivoluzionario. Non è la prima volta, certo, che la Commissione usa i risultati della scienza, però dare proprio un mandato così forte a un Vice Presidente che anche quello che dovrà occuparsi di foresight, pubblicare ogni anno un rapporto in cui dice dove va l'Europa, dove vanno le nuove tendenze, che cosa sta succedendo, è molto forte. E altrettanto forte è stato per noi vedere che c'è adesso un nuovo commissario, ci sarà nella prossima Commissione, un commissario il cui titolo è proprio quello di occuparsi di rischio, di rischio, di gestione del rischio. Questo non c'era mai stato. Ci sono stati commissari da sempre responsabili per le azioni umanitarie, ma un commissario proprio che ha il mandato di occuparsi di risk management è una novità. e basterebbe leggere che cosa c'è scritto in uno dei vari compiti di questo commissario per chiudere qua il mio intervento perché è già scritto tutto lì. E lì c'è scritto che questa persona dovrà, dato che la natura dei rischi continua ad evolvere, l'approccio alla gestione delle crisi deve diventare più consistente e più integrato. La parola integrato è, secondo noi ed è quello su cui lavoriamo noi tantissimo, veramente una nuova linea guida per noi per lavorare. E infine abbiamo già sentito da Hans Urrich stamattina che nella nuova legislazione europea di protezione civile è stato creato questo knowledge network. Avete già sentito tutto, voi siete esperti di questo settore, forse ci lavorate da tutta la vita, io no, ho lavorato in tantissimi altri settori, e vedere in una legislazione comunitaria scritto che la scienza deve contribuire per legge alla gestione delle crisi, alla protezione civile, non è una cosa che si vede in tutti i settori, quindi è una cosa di cui ci dobbiamo congratulare ed essere contenti, usarla e sfruttarla al meglio per proteggere, per proteggerci come cittadini, per proteggere i beni. Allora che cosa facciamo noi specificatamente al CCR? Ho alcune slide che vi parlano anche della scienza, perché qua siete tutti scienziati bravissimi, ma io vi voglio presentare brevemente invece oggi che cosa facciamo noi per assicurarci che quella puntina blu, la vedete là dove c'è scritto U-Policy, come dicevo prima, si avvalga veramente dei migliori risultati della scienza possibili. E questi risultati, questo tsunami di informazioni, questi dati, questa conoscenza, i risultati dei progetti di ricerca, i risultati di quello che fate voi soltanto oggi, questa tavola rotonda che abbiamo sentito oggi, c'è una quantità di informazioni, di scienza, di conoscenza, ecco, bisogna filtrarla, bisogna qualificarla e bisogna dare ai policy makers, questo è il nostro compito, quella scienza di cui ha bisogno da tutta quella massa tsunami di informazioni, di dati, noi scientifici, noi scienziati, dobbiamo tirare fuori quel poco che manca, quello che basta loro per scrivere quella legislazione, quella politica o per agire in quel momento in quel determinato settore. E quindi stiamo sviluppando anche tutta una serie di competenze, di skills, perché il rapporto policy makers, practitioner science, l'abbiamo sentito tutta la mattina, è difficile, ci sono proprio formamenti cognitive diverse tra gli scienziati e chi fa le politiche e lavorare in quella intersezione è difficile e richiede degli skills molto, anche in continua evoluzione, diversi e nuovi anche per gli scienziati da acquisire. Io dico sempre non mandate mai ai nostri colleghi di Bruxelles, alle direzioni generali, i vostri fantastici rapporti che pubblicate su Nature e che naturalmente ci rendono scienziati conosciuti in tutto il mondo, nel mondo della scienza, non mandategli alle Bruxelles, tanto non li possono leggere, non hanno tempo e neanche li capirebbero probabilmente. Voi gli dovete mandare un bel infographic di due pagine in cui si riassume tutto con capacità visive, con capacità di sintesi, riuscendo a mettere tutto in due pagine così che vengono utilizzate dei policy makers che ci scrivono una bella direttiva sopra. Questo è il mio discorso preferito, l'ho fatto pochissimi giorni fa di fronte alle direzioni generali e gli ho detto però guarda che anche l'infografica a Bruxelles non lo legge più nessuno perché neanche le due pagine non ce la fa più nessuno, neanche le due pagine non ci facciamo più. E allora cosa gli mandiamo? Il tweet, ecco. Adesso diciamo dagli il tweet, col tweet funziona. Va bene, era un po' una provocazione quella lì. Quindi che cosa abbiamo sviluppato? Abbiamo sviluppato dei knowledge center, molto di voi li conoscono, molto di voi collaborano con noi, forse la parte più interessante di questa slide è il grafico di sinistra dove vedete che ci sono undici direzioni generali che lavorano insieme, due sono scientifiche, siamo noi la DG Ricerca, le altre sono tutti policy makers e tutti insieme facciamo, prima facevamo una cosa che si chiamava policy issue solving, dovevamo risolvere i problemi, ma adesso è diventata ancora più importante lo issue setting, il problem setting, cioè capire insieme qual è il problema che dobbiamo risolvere e che cosa chiedere alla scienza. Fare la domanda alla scienza per il policy maker è abbastanza difficile e quindi cerchiamo proprio insieme di co-creare, di co-generare le risposte che la scienza può dare. Ora ho tutta una serie di slide sulle quali andrò molto veloci che spiegano che cosa stiamo facendo di concreto in questo momento e dove stiamo andando. E ci si muove dall'identificare che cosa manca, a guardare che cosa esiste, che cosa manca, a trovare delle soluzioni possibili per questi gaps scientifici. La prima cosa è il nuovo flagship Science for Disaster Risk Management. Alcuni di voi avranno visto il primo flagship che abbiamo prodotto che è stato un libro alla fine, un libro di grande diffusione, di grande successo che viene utilizzato adesso addirittura per i corsi universitari per insegnare, dove si era messo insieme il compendium di tutta la scienza, di tutta la scienza più importante nei vari settori, tutti ritrovate le soluzioni a livello europeo, grande partecipazione degli scienziati, talmente di successo che ci hanno detto che dovete assolutamente fare la versione numero 2. E infatti ci stiamo lavorando con un approccio diverso però. Mentre questo primo libro era basato su un'analisi hazard by hazard, adesso prendiamo in considerazione, seguendo le raccomandazioni fatte dal primo gruppo di scienziati, invece gli assets e lavoriamo intorno agli assets, ai rischi che si possono essere intorno agli assets e da qua diamo raccomandazioni su come si potrebbero trovare delle soluzioni. È carina questa cosa, ve la dico velocemente perché in una delle riunioni in cui abbiamo presentato abbiamo raccolto pareri di alcuni degli scienziati che ci lavorano, a proposito ce ne sono 300 in questo momento che a titolo totalmente gratuito lavorano per redigere questo flagship, uno dei partecipanti ha detto si noi va bene siamo d'accordo ci lavoriamo non ci facciamo pagare però questo dovete assicurarci che diventerà il libro che ogni primo ministro avrà sulla sua scrivania in tutta Europa e che userà per affrontare i disastri per risolvere il problema a livello europeo in modo omogeneo. E io ho detto che mi sembrava un'idea molto carina ma non ero sicura che i primi ministri fossero d'accordo e quindi ho detto testiamo e vediamo che cosa ne pensano. Ho scritto una bella lettera dal mio direttore generale a tutti gli ambasciatori dell'Unione Europea dicendo stiamo facendo questo lavoro, ci volete nominare dei revisori? Giusto per vedere se qualcuno rispondeva. Ebbene, hanno risposto tutti gli stati membri, abbiamo un numero di revisori che con rispetto parlando non sappiamo più cosa farne, non sappiamo più in quale capitoli mettere e quindi dimostra un interesse enorme anche a livello proprio di policy e non solo scientifico per affrontare e per fare questo lavoro insieme. E per noi è stata una grande soddisfazione. Quindi nel 2021 uscirà il nostro secondo libro sulla scienza del disaster risk management. velocissimamente passo sugli altri tool che potete cercare, sono disponibili tutti online. Questo è bellissimo perché vi dice quali sono i progetti di ricerca che sono stati fatti in Europa finanziati dai soldi europei, di solito questi progetti sono bellissimi finché si fanno poi muoiono. Noi cerchiamo di dargli un futuro perché pensiamo ci sia veramente una quantità di informazioni fondamentali e qua se vi interessa un topic, un hazard, un rischio potete vedere che cosa è stato già fatto e chi potete contattare e i risultati di questi progetti. Questo lo facciamo insieme alla DG Home. Insieme alla DG ricerca facciamo un altro tool molto interessante che si chiama Gaps Explorer e cerca proprio di andare a vedere quali sono i gaps settore per settore. In realtà è ancora esplorativa come tool, abbiamo iniziato soltanto con i forest fires però è molto ricco e ci sono delle comunità scientifiche che lo stanno alimentando e stanno mettendo dentro le informazioni per vedere come single hazard o multi hazard che cosa la scienza ha fatto e ha prodotto e dove sono i gaps esistenti. E poi i dati perché alla fine la conoscenza è fatta dei risultati delle ricerche ed è fatta di dati e sui dati mi dispiace dirlo ma invece siamo molto indietro. I dati a livello europeo non ci sono. Io quando ho iniziato a lavorare in questo settore la prima cosa che ho detto fatemi vedere i dati, datemi dei dati, bisogna capire. Per misurare gli impatti, si è parlato anche oggi di impatti, ma come misuriamo gli impatti? Non abbiamo i dati. Quindi abbiamo fatto questo risk data hub che mettiamo a disposizione di tutti gli stati membri ma qua mi piacerebbe fare un appello per chiedervi di aiutarci perché abbiamo messo tutti i dati che abbiamo a disposizione noi a livello europeo. I dati nazionali dove ho il sospetto che ci sia la parte cicciosa dei dati non ci sono ancora e quindi bisognerà fare una bella alleanza per i dati perché mancano. E infine inform che è invece un indicatore che dà indicazioni e valuta il rischio di crisi umanitarie e di disastri in tutto il mondo sulla base di vari indicatori. Passo veloce perché non abbiamo tantissimo tempo. Mi piacerebbe però dirvi che oltre a lavorare e dare al policy making europeo quel pezzettino di scienza che di volta in volta hanno bisogno facciamo anche scienza, facciamo ricerca. Stanno per uscire i risultati di PZ4, forse conoscerete la serie di studi PZ che ha fatto la Commissione europea sugli impatti del cambiamento climatico. Appena entra la nuova Commissione il nuovo commissario dovrebbe presentare i nuovi risultati che saranno poi alla base della revisione di nuovo dell'adaptation strategy europea e una serie di altre cose interessanti dove con l'aiuto dei satelliti o di altre tecnologie o di altri strumenti che utilizziamo mandiamo avanti alcune in collaborazione con voi, questa BOA che vedete lì che abbiamo messo per il calcolo dell'innalzamento del livello dei mari, previsione degli tsunami la facciamo in collaborazione con l'Italia. Fra l'altro con la protezione civile abbiamo un bellissimo accordo di collaborazione e una delle cose più belle che facciamo proprio con la protezione civile quest'anno, inizio dell'anno prossimo, è la Summer School ed è una scuola che vuole insegnare non agli scienziati perché questa insegnate voi, siete molto più bravi ma pensiamo di poter insegnare noi a fare quella cosa che vi dicevo prima che con il dialogo politica, scienza, policy maker, practitioner, scientist ed è proprio questo lo scopo di questa scuola che faremo a Firenze e voglio ringraziare Nicola che ci ha aiutato tantissimo e naturalmente anche Giovanni della protezione civile a fare un programma molto interessante che con una serie di masterclass vorrà proprio insegnare come migliorare questi skills degli scientifici ma anche dei policy makers perché il dialogo funzioni meglio e sarà a Firenze dal 13 al 15 di gennaio si chiamava Summer School ma col cambiamento climatico adesso lo facciamo a gennaio, va bene lo stesso a Firenze c'era il sole, sarà caldo. Benissimo, per altre cose forse l'unica è il foresight perché abbiamo detto tantissime cose su tutti gli hazard by hazard ma quello che può succedere, quello che ci possono fornire l'intelligenza artificiale quello che può succedere col disengagement dei cittadini quello che può succedere, le scienze umane che ci possono fornire per aiutare questo dialogo è tutto oggetto di studi che stiamo facendo e se vi interessa ci potete contattare per lavorare insieme su queste cose ma il futuro va là oltre a continuare a studiare gli hazard by hazard, il martirischio eccetera il futuro in realtà va là vedere i social media, le intelligenze artificiali che cosa possono aiutarci a fare e noi su questo lavoriamo. Grazie. Allora adesso abbiamo la tavola rotonda conclusiva invito Mario Tozzi che coordinerà la tavola rotonda purtroppo a causa dei cambiamenti non climatici ma di date abbiamo meno partecipanti di quanto ci aspettavamo abbiamo comunque il CETEMS, l'OGS, l'ARPA dell'Emilia e Romagna e il rappresentante di EPOS che è in realtà il coordinatore di EPOS Massimo Cocco. Colgo anche questo momento di riassessamento per dire che tutti quanti voi che avete partecipato ai tavoli avete ricevuto un documento diciamo di conclusione di questa giornata non abbiamo avuto sostanzialmente richieste di modifica adesso alla fine della tavola rotonda questo documento verrà letto e quindi noi lo pubblicheremo sul nostro sito del Dipartimento sulla settimana della protezione civile. Grazie. Siamo anche un po' in ritardo quindi vi chiedo di essere sintetici del resto abbiamo visto che vi sarà dato solo un tweet per poter esprimere la vostra opinione. Io comincerei da... il tema sarebbe sulla visione della visione futura sui possibili sviluppi dell'attività scientifica per la protezione civile. In realtà stiamo parlando di questo da stamattina però comincerei con Massimo Cocco e qui in veste e post infrastrutture della ricerca in Europa per temi di protezione civile. Ora questa cosa se ne avessimo parlato anche solo qualche tempo fa sarebbe sembrata una cosa complicata o troppo futuribile. Invece come stanno le cose? Buongiorno a tutti. Io partecipo e ringrazio per l'invito il Dipartimento della protezione civile per contribuire a questa giornata e a questa discussione importante. EPOS sarebbe European Plate Observing System è un'infrastruttura di ricerca europea finanziata dall'Europa e dagli Stati membri che è coordinata dall'Italia che ospita la sede legale e che racchiude la partecipazione di 25 Stati nella fornitura di dati e che integra le infrastrutture di ricerca esistenti per l'intera scienza della terra solida. Quindi noi stiamo integrando e fornendo accesso a dati che vanno dalla sismologia alla volcanologia ai dati spaziali, geodesia, dati geologici, dati di sismicità indotta, rischio antropogenico, geomagnetici diciamo quasi tutto, manca abbastanza poco. Questa è un'indicazione proprio per rispondere a quello che dicevamo a livello di Commissione europea perché la Commissione europea nell'evoluzione tra i vari programmi a quadro è passato da un approccio di integrazione diciamo nel vecchio FP6 di fatto alla federazione delle infrastrutture di ricerca a livello nazionale e pan-europeo. Ed EPOS è una delle infrastrutture, sta nella roadmap ESFRI e sta nella roadmap di già 16 Stati membri in Europa. Lo scopo e la missione di EPOS è molto semplice. È quello di integrare i dati provenienti dalle infrastrutture di ricerca esistenti per renderli accessibili per la scienza e in prospettiva perché oggi ancora non siamo pronti per la società. L'esempio tipico può essere quello di un dato GPS o GNSS che è accessibile a tutti in accesso aperto ma che richiede un processamento ed un'analisi di scienziati esperti per cui un ricercatore che sta studiando la tettonica di un'area non è fondamentalmente in grado di processare quei dati e generare una mappa di spostamento o una mappa di deformazione. Quindi noi vogliamo dare accesso tanto agli studenti quanto ai ricercatori a questi dati. Mi ricollego all'ultimo intervento del JRC riguardo alla mancanza di dati e su questo vorrei fare due osservazioni. La prima è che quando parliamo di dati dobbiamo definire che cosa intendiamo per dati perché i dati possono essere i raw data, i dati grezzi e per esempio in sismologia penso che abbiamo la più elevata e moderna esperienza e realtà di condivisione in tempo reale dei dati a livello globale che con EBOS abbiamo portato addirittura verso gli esperimenti temporanei. Durante il terremoto di Amatrice tutti i dati delle reti temporanee erano accessibili in tempo reale in tutto il mondo attraverso Orfeus che è l'infrastruttura europea e l'infrastruttura globale coordinata dall'FDSN. Però i dati possono essere anche prodotti scientifici. Una mappa di un interferogramma da satellite è un dato che richiede una azione da parte dei ricercatori e dell'uomo. Un dato può essere addirittura una check map, può essere una mappa di rischio. Parlare di accesso e condivisione di questi dati è un problema che va affrontato perché sono dati e prodotti completamente diversi. E anche il modo con cui noi coniughiamo il concetto di scienza aperta sul quale siamo tutti d'accordo e che i nostri Presidenti avranno fermati con il Ministero decine e decine di documenti per sostenere la scienza aperta nel momento in cui noi decliniamo sulla condivisione di dati andando nel dettaglio della tassonomia dei dati questo richiede una discussione di cui oggi non abbiamo tempo. Però, primo messaggio, dobbiamo aver chiaro questo. E specialmente con la protezione civile. Se EPOS domani darà accesso alle mappe di rischio, ai servizi per il rischio sismico fatti a livello europeo, devono essere questi coerenti con quelli nazionali? Darà EPOS accesso anche alla mappa nazionale che potrebbe differire da quella europea? E come comunicare questo alla società? È la società in grado di capire perché la mappa italiana differisce da quella europea? Prima osservazione. Seconda osservazione. I dati da solo fanno poco se non abbiamo i servizi. L'accesso, l'utilizzo e l'interpretazione dei dati, specialmente per la protezione civile, è fatta attraverso servizi. Quindi il mio messaggio per questa discussione di oggi è il seguente. Il primo messaggio riguarda la necessità per migliorare il contributo scientifico per la protezione civile di sostenere la raccolta dei dati. Perché il monitoraggio è diverso dalla sorveglianza. Il monitoraggio a scienza. Perché la scienza della terra sono scienze sperimentali che richiedono dati. E quindi più lo sviluppo della scienza va e sostiene la raccolta di dati di alta qualità e di standardizzati, migliore sarà il servizio per la protezione civile. E qui ci sono compiti che vanno in qualche modo, perché spesso c'è una confusione su questo anche per i meccanismi che finanziano l'evoluzione del monitoraggio. Il secondo messaggio, riferito a questo, è ovvio rappresentando EPOS in questa discussione, il ruolo delle infrastrutture di ricerca è fondamentale nella raccolta, nell'armonizzazione e integrazione dei dati. Il secondo messaggio riguarda l'aspetto che abbiamo già trattato oggi, prima del multirischio, cioè l'approccio integrato ai dati. Oggi studiare uno o qualsiasi dei fenomeni che abbiamo accennato richiede l'analisi di dati che vengono generati da comunità diverse, che hanno procedure diverse, che hanno cultura della standardizzazione e del controllo di qualità completamente diverse. Soltanto nelle scienze della terra solida. Se prendiamo i dati geologici con i dati sismologici e con i dati geodetici. Bene, favorire questa, diciamo, integrazione dei dati multidisciplinari, che di nuovo è compito dell'infrastruttura di ricerca, secondo me ci deve tracciare un po' la rotta verso il futuro. E faccio un esempio per chiedere questo. Durante il terremoto da matrice all'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, dove io lavoro e che ospita la sede legale del Consorzio EPOS, abbiamo processato per la protezione civile i dati che avevamo. Dopo 48 ore noi avevamo il primo modello interpretativo della faglia che aveva generato il terremoto. Dopo 72 ore questo modello era praticamente già abbastanza raffinato, che a parte poche modifiche pubblicate oggi in letteratura, diciamo ci stiamo. Questo modello era stato fatto con le forme d'onda e i dati sismologici, con i dati geologici, con i dati spaziali, con i dati geodetici e con le informazioni dei geologi in campagna che avevano tracciato e mappato le fratture. Per assurdo il dato che è stato meno utile per noi per vincolare quel modello erano le localizzazioni ipocentrali degli aftershock, perché i dati della sala operativa fatti in emergenza non avevano nelle 72 ore il dettaglio che avevamo conseguito con l'analisi degli altri dati. Quindi lo sviluppo dovrebbe essere per esempio investire perché tecnologicamente noi abbiamo la possibilità perché la differenza è che tu durante la sequenza analizzi per la sala sismica 1.000-2.000 terremoti, oggi ad Amatrice dopo l'analisi dei dati raccolti con le reti temporanee il catalogo della micro sismicità ha più di 2 milioni di eventi sismici. E dobbiamo anche essere in grado però di gestire questa quantità di informazione per i servizi della protezione civile. Quindi io credo che il discorso su come dare accesso ai dati e come costruire i servizi per fornire servizi sempre di maggiore qualità alla protezione civile è condivisibile per come l'abbiamo discusso in termini di principi ed obiettivi, è perseguibile in termini di innovazione come è stato dato, ma richiede una discussione attenta perché l'accesso ai dati di per sé è un'affermazione molto facile e che può nascondere una scarsa consapevolezza o di una sottovalutazione del gap e della difficoltà che realmente c'è nel condividere a livello europeo, questo vale specialmente per l'Europa, queste informazioni e questi dati. Grazie. Questo è un punto cruciale, insomma, una società non preparata, dice Cocco, quindi non è ancora pronta a cogliere questi dati così come sono, ma forse anche in altre forme. Questo è un po' un problema in una società in cui ognuno si procaccia le notizie per conto proprio e pensa di aver in qualche misura saltato l'aspetto del sacerdote o del professore. Vado direttamente a quello che mi interessa. Da questo nascono tante cose come la famosa stima di magnitudo che variava a seconda del colore politico della regione dove veniva determinata. Qui però è un lavoro culturale, non è tecnologico. Vorrei stare ancora su questo, a partire da questo con Stefano Parolai che è delegato di OGS, dunque un salvatore geofisico sperimentale. Stiamo sugli sismi, ma sulla geofisica in generale come, appunto, possibilità di riduzione dei rischi naturali antropici. Vabbè, il tema della giornata. Sì, grazie. Buongiorno. È molto difficile toccare adesso un tema in generale dopo che così tante cose sono già state dette, e molte anche in modo abbastanza approfondito, nonostante i tempi molto brevi. Diciamo che uno degli argomenti che è sicuramente importante e è stato toccato oggi è quello dello sviluppo tecnologico. La tecnologia negli ultimi anni si è sviluppata in modo spaventoso e ci consente ormai di distribuire informazioni, dati, qualsiasi cosa significhino, in tempi molto rapidi. Cosa può fare la scienza in questi termini? Può contribuire sviluppando ulteriormente le metodologie che già esistono ma che forse hanno ancora bisogno di una conoscenza di quelli che sono anche i fenomeni dal punto di vista naturale. Quindi possiamo contribuire ancora di più con lo studio sicuramente dell'interno della Terra, con lo studio della fisica dei terremoti e migliorando le metodologie per fornire sempre più dati e informazioni in tempo reale che possono essere utili alla protezione civile. Giusto per far capire quanto sia difficile lo scopo del ricercatore che si occupa di terremoti e di scienze della Terra. Oggi Carlo Doglioni ha fatto un esempio confrontando un po' le scienze della Terra con la medicina. Credo che sia ancora più complicato il nostro compito, nel senso che i medici hanno avuto l'opportunità di operare il paziente, di aprirlo. Noi spesso stiamo lavorando con un paziente che conosciamo solo direttamente forse per quello che è il primo strato di pelle e tutto il resto lo conosciamo solo in modo indiretto. Quindi abbiamo ancora un compito più difficile, Carlo, che ci mette di fronte a delle sfide che sono chiaramente enormi. Un altro aspetto che è stato toccato oggi, che ritengo molto importante, è quello del multirischio. È una parola che va di moda da tanto tempo. Tanti progetti sono stati fatti anche a livello di comunità europea. Con Giulio abbiamo anche lavorato in un progetto insieme. Quello che manca ancora, forse tornando un po' agli aspetti che ha toccato anche Fausto, Guzzetti, è uno scienziato che sia anche in grado di comprendere e di lavorare su degli aspetti multirischio. Io mi ricordo che all'interno del progetto Matrix, quando abbiamo iniziato a sviluppare un software che fosse in grado anche di lavorare veramente sul multirischio, quindi con effetti cascata, non solo sulla parte di AZA ma di vulnerabilità, poi ci siamo chiesti, sì, ma chi lo fa? Chi lo utilizza? Qual è lo scienziato che andrà a utilizzare questi tool? E quindi manca una figura di scienziato che in questo momento sia pronta, anche solo all'interno delle scienze della Terra, di coprire così tante discipline. Un ultimo punto che vorrei toccare e che è tornato spesso il nome dell'onorevole Zambelletti, che io non ho avuto il piacere di conoscere, ma che è una persona che ha lasciato un segno molto chiaro nella regione in cui io sto lavorando in questo momento. In questa regione il fatto di avere iniziato in qualche modo la protezione civile ha creato una grande sensibilità rispetto ai problemi di protezione civile. Noi abbiamo in Friuli Venezia Giulia in questo momento 7-8 mila volontari di protezione civile. Esiste un problema di base però, il problema è che molti di questi volontari iniziano ad essere anziani. Abbiamo un problema di cambio generazionale e quindi anche il discorso che veniva fatto sui giovani oggi sta diventando un problema pressante. Proprio la settimana scorsa discutendo con l'assessore regionale della protezione civile in Friuli Venezia Giulia ci chiedevamo come possiamo insieme alla protezione civile cercare di riavvicinare i giovani per un ruolo che è così importante sul territorio perché fornisce così tante informazioni e che è così di grande supporto alle istituzioni. Quindi questo è un altro aspetto importante e che in qualche modo si collega anche all'aspetto tecnologico di IT Alert che è stato toccato prima che è uno strumento eccellente di grande importanza per il futuro ma che credo provorrà delle nuove problematiche, delle nuove sfide per la protezione civile proprio nella fase di training non più solo del personale o dei volontari ma della popolazione stessa. Se faccio il confronto con altri sistemi esistenti nel mondo molto del lavoro non è stato poi quello tecnologico ma quello dell'utilizzazione della parte della popolazione stessa del tool sapendo come comportarsi nel momento in cui ricevono un allarme. Quindi penso che abbiamo tante sfide davanti credo che la scienza possa contribuire con diversi aspetti e con un lavoro sempre più a stretto contatto con la protezione civile. Grazie, grazie anche per la sintesi che chiedo anche agli altri perché siamo in finale. Ora ci spostiamo verso altri tipi di rischio teniamo sempre sullo sfondo il rischio in generale e Frank Marsano direttore di CETEMS qui si parla dal punto di vista tecnico dei radar meteorologici per la valutazione dei fenomeni ma siamo nel solco che abbiamo tracciato anche di comunicazione di questo tipo di informazioni perché l'aspetto del passaggio tra la scienza e la protezione civile che è il fulcro della giornata è molto chiaro ma c'è anche una questione che va al di là delle tecnologie specifiche o della scienza specifica in cui ciascuno di noi può essere più o meno esperto ma proprio nel trasferimento dei risultati sarebbe detto un tempo missione che a tutti gli istituti di ricerca in fondo hanno. Prego. Grazie, grazie per l'invito e grazie a voi per essere qui. Io rappresento il Centro di Eccellenza, Interviamento e Modellistica Previsionale di Eventi Severi dell'Università dell'Aquila che è in convenzione con Sapienza dell'Università di Roma, con CNR e l'Università Politecnica delle Marche. Questo centro nasce nel 2001 e devo dire esiste oggi anche grazie anzi e soprattutto grazie al Dipartimento di Protezione Civile nazionale perché nel 2009 il tempo si fermò e al rischio non ci fu l'intera città e anche le sue istituzioni in particolare universitarie. Un progetto importante di protezione civile fu l'elemento aggregante con cui un certo numero di persone si rimboccarono le maniche e decisero di proseguire questa attività. Ricordo a questo proposito il grande sforzo fatto da Bernardo De Bernardini che ha chiesto allora sia prima che dopo anche dando peraltro dei contributi molto originali anche in termini di ricerca. se oggi si parla di radar metrologia applicata anche alla volcanologia per esempio fu una discussione fatta proprio in queste sedi con lui. di fatto per esempio il nostro centro di ricerca è un centro relativamente piccolo di ricerca ma che si basa fondamentalmente sulle persone. Oggi conta più di 20 strutturati che afferiscono persone, altri 20 che sono a contratto, si autofinanzia. Questo per farvi capire che oggi fare ricerca e sviluppo in Italia è un'attività che richiede molta creatività anche perché il sistema nazionale fondamentalmente che è legato poi alle attività del MIUR per diversi anni direi ormai in quasi un decennio di fatto si muove molto molto lentamente. Noi come centro di ricerca abbiamo un'esperienza anche notevole da un punto di vista dei rapporti con il territorio. Dal 1998 c'è una collaborazione con la Protezione Civile Regione Abruzzo verso cui agiamo in termini di sostegno alle loro iniziative, gestiamo con loro vari sistemi di monitoraggio accennava Mario Sozzi all'aspetto radar meteorologico che è stato un progetto nazionale su cui anche con Regione Abruzzo abbiamo collaborato al tavolo tecnico nazionale. Oggi i filoni di ricerca si sono resi più variegati. Oggi probabilmente se un messaggio dobbiamo dare verso quello che è la scienza applicata alla protezione civile probabilmente deve passare per il sistema terra quindi per l'inclusione delle varie sfere possibilmente in una modellistica quantitativa e una capacità di osservazione quantitativa. Noi eravamo concentrati inizialmente solo sull'atmosfera ma oggi passiamo dalla idrologia, alla climatologia, agli sistemi di osservazione e oggi anche recentemente alla criosfera. Proprio questa è stata una missione sul monitoraggio del ghiacciao e del calderone che ci sta probabilmente lasciando è stata oggetto di grande attenzione anche a scala territoriale. Quindi direi che da questo punto di vista forse il salto culturale è quello anche nella formazione di passare dalla multidisciplinità alla interdisciplinità che probabilmente ha un senso di commistione anche dei linguaggi. Noi abbiamo impiegato quasi dieci anni per far parlare un dipartimento di ingegneria con uno di fisica e dopo dieci anni abbiamo cominciato a progettare insieme anche in ambito internazionale. E questo è un aspetto che anche a livello scientifico, figuriamoci poi a livello di comunicazione verso come è stato più volte ribatito in questo caso. Tra parentesi sulla comunicazione probabilmente ecco la comunità scientifica il singolo cercatore, cercatrice probabilmente non ha necessariamente la sensibilità nella comunicazione mediatica. Noi abbiamo avuto una serie di incidenti mediatici anche col Dipartimento di Protezione Civile in cui frasi estrapolate dal giornalista o dalla testata di turno sono state interpretate dal grande pubblico in un certo modo e questo è stato un danno per tutti dal sistema di protezione civile nazionale ma anche per il centro di ricerca. Ultimo aspetto, abbiamo bisogno sicuramente di un'infrastruttura osservativa che vada verso i requisiti di protezione civile, tempestività dell'osservazione, continuità dell'osservazione. Per esempio in questo momento l'infrastruttura satellitare ha delle grandi potenzialità ma anche delle grandi carenze. Non spesso è disponibile il dato sempre e non sempre su quell'area quindi un grande investimento che anche l'Europa sta facendo in questa direzione è sicuramente auspicabile. Tuttavia il messaggio con cui vorrei lasciarvi è che è vero che c'è tanta intelligenza artificiale in giro ma quella naturale ci sarà sempre più necessaria. Grazie. Bisogna chiudere lì? Pensavo si volesse concludere su quanta ignoranza invece naturale c'è quella l'abbiamo lasciato. Paese fondamentalmente analfabete da un punto di vista scientifico il nostro dunque è facile che circolino tante sciocchezze. Tiziana Pacaniella di Arpa Emilia Romagna che chiude sempre stiamo sull'evoluzione dei modelli previsionali meteorologici però qui c'è un problema che riguarda direttamente il tema che stiamo affrontando cioè di come poi il messaggio previsionale in questo caso è possibile nel caso dei remoti abbiamo visto a che punto siamo debba poi passare a chi amministra sia localmente che poi anche regionalmente perché tante volte abbiamo visto in passato addirittura l'intervento dei giudici in alcuni casi ma quasi forse l'incapacità di leggere quel messaggio qualche volta viene da pensare che gli amministratori locali sul foglio diciamo che gli viene consegnato vogliono vedere il teschio con le tibie per essere sicuri che proprio dice attenzione dovete fare qualcosa forse si può fare qualcosa a livello di formazione intanto per chi amministra che ha sempre tanti problemi ma non gli si può perdonare l'ignoranza di queste cose. Sì sicuramente il tema della comunicazione è un tema molto importante noi a livello di collaborazione col Dipartimento di Protezione Civile abbiamo iniziato a fornire un contributo tecnico scientifico con la modellistica previsionale dagli anni 90 col professor Barberi dopo l'alluvione del Piemonte un po' alla volta siamo stati inseriti nella riorganizzazione del sistema nazionale di protezione civile sia come centro di competenza per la modellistica la radiometeorologia e l'idrologia ma essendo anche centro funzionale di protezione civile ed essendo un servizio metrologico abbiamo anche diciamo la prerogativa di essere utenti di noi stessi quindi degli stessi prodotti di parte dei prodotti che ci vengono poi forniti alla protezione civile quindi abbiamo il problema di anche internamente alla nostra struttura organizzazione di protezione civile anche regionale di dover comunicare comunicare qualcosa che non è spesso facile da comunicare per via proprio dell'incertezza che è stata menzionata parecchie volte oggi l'incertezza non è una malattia nel senso che l'incertezza è qualcosa che deve essere accettata deve essere accettata da noi comunità scientifica deve essere accettata da chi deve prendere le decisioni e deve essere accettata dalla popolazione attraverso la formazione perché noi quando trasmettiamo dell'incertezza noi abbiamo cercato una volta che è stata presa la coscienza del fatto che i nostri errori sono dovuti non al fatto che siamo solo di cialtroni tra virgolette ma dovuto al fatto che il sistema atmosfera nel nostro caso è un sistema caotico quindi vuol dire che quando tu compi piccoli errori questi errori si propagano e si amplificano anche molto velocemente e dopo che noi abbiamo cominciato più di vent'anni fa a sviluppare una disciplina che è quella dell'ensemble forecasting nel quale cerchiamo ripetendo più volte una previsione di cercare di capire quali potrebbero essere gli alternativi scenari evolutivi anche a livello stagionale per dire non solo per il breve termine e avere quindi uno spettro di cosa potrebbe succedere di cercare di quantificare l'errore associato alla nostra previsione questo tutto sommato è tutto quello che noi possiamo fare e quando comunichiamo qualcosa ci sono situazioni nelle quali siamo perfettamente consapevoli che l'incertezza della nostra comunicazione è grande ma perché certi fenomeni sono difficili da prevedere e anche se le persone adesso se ne rendono conto e ovviamente si sa che quando ci sono i temporali che diciamo purtroppo sono sono estremamente violenti estremamente frequenti negli ultimi anni e che hanno un grossissimo impatto noi molto noi siamo in grado di dire ok domani ci sarà questa situazione ma non ti so dire esattamente quando e dove questo è un'informazione che deve essere deve essere deve entrare nella consapevolezza che noi ci dobbiamo adeguare a questi limiti mano a mano che questi limiti verranno ridotti saremo tutti più felici e le azioni saranno tutte più tranquille e sicure però noi dobbiamo imparare a gestire questi limiti e dobbiamo imparare a raccordarci in maniera tale da da far capire che la comunicazione dell'incertezza è un atto di onestà e che se noi enti istituzionali e protezione civile non diciamo la temperatura che avremo il 24 di dicembre a bologna nel quartiere san vitale non è perché siamo degli incapaci ma perché chi lo dice è un cialtrone e quindi questo è un diciamo ci va bisogna togliere la demonizzazione dell'incertezza e bisogna inserirla e fare formazione e insegnare alla gente che la meteorologia non è appunto più prerogativa dell'ufficio presagio ma è il frutto di una diciamo di sforzi scientifici e tecnologici di grosso spessore. Volevo rimarcare un'altra volta il problema dei dati perché ovviamente ormai è stato diciamo un argomento comune il fatto che noi al momento siamo bombardati di dati e la tecnologia ci ha messo a disposizione tantissimi dati di forma completamente interogenea e anche tutta la disciplina della citizen science che è importantissima ci fornirà tutto un ulteriore set dei dati ovviamente questo lascia spazio al fatto che noi dobbiamo progredire nelle tecnologie che come si usa dire trasformano i dati in informazione perché da tutto ognuno secondo dell'applicazione deve riuscire a mettere tutto questo in un grosso estrattore di centrifuga come dei bar e tirar fuori da ciò l'informazione utile. Volevo parlare di un'altra cosa che è un altro punto molto importante che è stato menzionato anche da Frank è l'interdisciplinarità. Noi per progredire dobbiamo riuscire ad avere informazioni che sono sempre meno settoriali e sempre più cross settoriali e derivano anche dalle discipline. Adesso si tende ad avere modelli che includono appunto l'idrologia sono accoppiati con l'oceano. Per riuscire a simulare bene i processi del suolo non serve sapere solo più o meno che vegetazioni ci sono in Val Padana ma occorre avere informazioni del suolo, della profondità delle falde e di tutta la struttura per riuscire a simulare meglio anche quando si parla di cambiamenti climatici o stagionali per riuscire a simulare meglio la propagazione del calore del suolo. Questo è un grosso sforzo di interdisciplinarità che in Italia in questo momento il Dipartimento è diciamo forse l'organismo più efficiente e che in tutti questi anni ha veramente condotto un'operazione per favorire il dialogo tra tante discipline differenti. Bene grazie su questo tema della comunicazione si avrà modo con Angelo di progettare qualche altra cosa lascio a lui la parola immagino per le conclusioni giusto? Mauro Buona giornata veramente bella, utile per tutti quanti. Allora io voglio innanzitutto ringraziare i rappresentanti della Commissione europea che sono qui presenti perché hanno potuto constatare di persona lo sforzo che stiamo facendo tutti quanti insieme per il lavoro relativo alla sicurezza, alla resilienza dei nostri cittadini. Io voglio anche ringraziare ovviamente Mario e Stella Martin e gli altri che sono intervenuti, i moderatori, quelli che sono intervenuti oggi in questa conferenza, in questa riunione nella quale abbiamo tracciato lo stato delle attività della ricerca scientifica applicata a finalità di protezione civile. Voglio ringraziare il nostro presidente della Grandi Rischi, Scaraccia Mugnozza e sono d'accordo con lui che la ricerca vada finanziata, vada adeguatamente finanziata. Noi come Dipartimento ci preoccupiamo di finanziare, di far crescere la ricerca applicata a finalità di protezione civile e per questo che ogni anno investiamo risorse per l'attività di previsione e prevenzione attraverso i nostri centri di competenza. Siamo interessati allo studio di fenomeni precursori come ha ricordato Carlo Doglioni e io personalmente insieme ai colleghi, sei in fondo ma ti ho visto, vogliamo fare sì che possa crescere la ricerca applicata a finalità di protezione civile. Per questo lo ribadisco, l'avevo detto all'inizio e chiedo ai colleghi delle Direzioni Generali che sono qui presenti di portare anche ai colleghi della DG Regio, lo faranno i colleghi del Dipartimento di Sviluppo e Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il prossimo 25 ottobre un messaggio chiaro. Nel nostro Paese noi vogliamo fare un PON per la prevenzione non strutturale. Quindi abbiamo beneficiato di un importante finanziamento europeo di 500 mila euro per elaborare questo PON, erano d'accordo i Ministri, in particolar modo la Ministra Lezzi, il Ministro dell'Ambiente, è d'accordo il Ministro Provenzano sul fatto che nel nostro Paese si investa sulla prevenzione non strutturale. La prevenzione non strutturale deve passare anche attraverso la integrazione della conoscenza. Ringrazio la collega dell'ARPA Emilia Romagna perché ha parlato di un tema molto importante che è quello della interdisciplinarietà ma per quello che mi riguarda ha fatto anche un apprezzamento al Dipartimento di questo le sono grata perché è lo sforzo che noi stiamo facendo. Dobbiamo vincere le resistenze che ci sono in chi detiene il dato. Noi siamo per fornire i dati, renderli liberi e consentire a chi ha creatività di utilizzare questi dati per istituirci dei prodotti, delle applicazioni che sono utili per tutti quanti noi. Crediamo molto nell'uso della nuova tecnologia e questa cosa di IT alert della pianificazione su un sistema web GIS è la sfida del futuro. Certo ci rendiamo conto che la popolazione va adeguatamente formata, informata però con le dovute cautele sapendo sempre che le previsioni hanno un valore probabilistico e non deterministico noi possiamo restituire ai nostri concittadini un servizio molto utile. Siamo diventati bravi grazie anche ricordo io e Frank abbiamo passato un Natale, un Natale molto pieno e denso di lavoro perché eravamo nella stessa commissione di aggiudicazione della gara dei radar meteo nazionali, della mosaicatura radar e dobbiamo completare la realizzazione dei radar, sono passati dall'epoca 17 anni perché era il 2002-2003 quindi 16-17 anni, oggi abbiamo la tecnologia per poter fare un'informazione corretta soprattutto sui fenomeni estremi in fase di now casting. A me non interessa tanto la previsione della onda di piena che è importante, che aveva comunque un modo per essere diffusa e diramata. Quello che a noi ci creano problemi sono gli eventi del 9 e del 10, è vero Carlo che sta in là, 9 e 10 di luglio quando la mattina mi inizia ad arrivare le foto di Milano Marittima passando per le Marche, nel pomeriggio passando a Pescara chicchi di grandine quanto una pallina da tennis per arrivare giù a Santa Maria di Leuca. Tutto questo aveva uno scenario che era definito e si poteva e si è previsto quello che in qualche modo ha avuto difficoltà di attuazione è l'informazione alla popolazione. Allora con questo sistema di T-alert che utilizzeremo a partire da questi fenomeni ma che potrà essere utilizzato per scopi di sicurezza, per chi gestisce il territorio, pensate a chi amministra in una città o in un paese gestisce la viabilità, se noi chiudiamo via Vitorchiano possiamo tranquillamente utilizzare questa tecnologia per dire a tutti coloro i quali si trovano lì in quel preciso istante, se poi soprattutto utilizziamo anche le app e qui voglio ringraziare Agit perché la piattaforma di allertamento nazionale IT-alert nasce e poi si sviluppa, avrà subito a fianco un'app, l'app restituirà informazioni puntuali e precise prese dal piano di protezione civile sulla base della geolocalizzazione. Quindi un lavoro enorme che si deve concludere con la diffusione della conoscenza. Voglio chiudere ricordando a tutti quanti voi che questo è stato il primo, la giornata di avvio della settimana della protezione civile. C'è Mauro che cerca di farmi vedere in tutti i modi che poi vi devo leggere il documento. Mi ero attrezzato, ringrazio Mauro che mi ha veramente aiutato e che segue tutti quanti voi e tutti quanti noi in queste attività. Dicevo la diffusione della conoscenza, il mondo del volontariato, lo diceva prima il collega che è intervenuto in Friolici è nato in qualche modo anche il volontariato, in realtà già nel 1966 a Firenze con l'alluvione abbiamo avuto prova di quanto il volontariato sia importante, il volontariato soprattutto quello formato organizzato che noi coinvolgiamo nelle nostre attività. Credo che più noi riusciamo a comunicare l'importanza di quello che facciamo a beneficio della collettività e più riusciamo a raccogliere volontari che partecipano all'attività di protezione civile. Chiudo ricordando oggi sul Corriere della Sera c'è un bell'articolo, ci sono io in una foto con un ragazzo, è il fratello di uno delle vittime del Ponte Morandi che ha deciso dopo questa esperienza di entrare nella Croce Verde di aiutare il prossimo e solo l'ultimo che io ho incontrato e che a seguito di un evento tragico è diventato volontario di protezione civile. Quindi noi facendo il nostro lavoro riusciremo ad alimentare anche questa risorsa straordinaria del volontariato di protezione civile. A questo punto ringraziandovi perché vi abbiamo trattenuto oltre ho il dovere secondo Mauro di leggere questo documento. A conclusione dei lavori protezione civile e comunità scientifica rappresentate dagli oratori intervenuti nella giornata concordano sull'opportunità di dare risalto ai seguenti punti condivisi. Il sistema di protezione civile riconosce il valore insostituibile del contributo scientifico per la realizzazione delle proprie attività fondamentali relativi a tutto il ciclo di rischio, prevenzione, preparazione, gestione e superamento delle emergenze e si impegna ad un uso sempre più esteso e consapevole dell'informazione scientifica nei propri processi decisionali. La comunità scientifica è consapevole della propria responsabilità nel fornire ai decisori di protezione civile i migliori dati, analisi, modelli interpretativi e valutazione allo stato dell'arte per permettere lo svolgimento del processo decisionale su basi scientifiche solide e di alta qualità. Nel riconoscere la complessità dei fenomeni naturali e antropici di interessi di protezione civile che possono verificarsi, la comunità scientifica è consapevole che la caratterizzazione di tali complessità debba essere accompagnata per quanto possibile da una valutazione quantitativa della possibilità di accadimento dei diversi eventi, rappresentando allo stesso tempo l'incertezza che accompagna tale valutazione. Questo aspetto trova riscontro anche nell'attenzione che a livello europeo il sistema di protezione civile autorevolmente pone sul cambiamento delle stime di rischio nel tempo anche rispetto al cambiamento climatico in atto e al tema degli eventi catastrofici a bassa probabilità di accadimento e alto impatto. In questo senso inoltre si sottolinea l'identità di vedute con organismi internazionali quali l'Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei rischi da disastro e l'Organizzazione per la cooperazione allo sviluppo economico. La società civile e tutti i cittadini sono sempre più coinvolti sul tema dei rischi di protezione civile. È importante che la comunità scientifica e i decisori di protezione civile operino insieme per fornire informazioni autorevoli, corrette e comprensibili sia in condizioni ordinarie che di emergenza. L'auspicio è che la comunità nel tempo e con l'aiuto del mondo della comunicazione accrescano la loro resilienza sviluppando sempre più la capacità di riconoscere le fonti di informazione più accreditata a cui fare riferimento. Protezione civile e comunità scientifica di riferimento sono pronte a contribuire insieme beneficiando del ruolo di coordinamento svolto dal Dipartimento della protezione civile allo sviluppo di una strategia nazionale per la riduzione dei rischi del disastro, coerentemente con le politiche europee in una prospettiva moderna, dinamica e di lungo periodo. Grazie, grazie a tutti.